Ok. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al terzo seminario del nostro ciclo di seminari dedicati alla giustizia straordinaria e militare. Oggi continuiamo a parlare di giustizia del dopoguerra ma con specifico riferimento al crimine di collaborazionismo e quindi a come fu punito il crimine di collaborazionismo nel dopoguerra e affronteremo questo discorso attraverso un'ottica comparata tra Italia e Francia. Non sottraggo ulteriore tempo ai saluti e ai convenevoli e passo subito la parola al direttore di Storetto Luciano Boccalatte che oggi gestirà questo nostro pomeriggio insieme. Grazie. Prego Luciano. Grazie Maria. Procederemo come nei seminari, nelle sedute precedenti. Io avvertirò al quarto d'ora i relatori perché i tempi che abbiamo sono abbastanza contingentati e avvertirò al quarto d'ora che mancano cinque minuti per i relatori come abbiamo proceduto nei mesi, nelle sedute precedenti. Il mio intervento, voi sapete io non sono né un giurista né mi sono occupato in modo specifico di giustizia e di epurazione. Il mio intervento è molto breve, introduttivo, ma mi piacerebbe inquadrare questo importante progetto di ricerca nel periodo più lungo dell'attività scientifica dell'istituto. Ricordando anche, colgo l'occasione per ricordare, amici che hanno dato un notevole contributo in questo senso e che purtroppo ci hanno lasciati. Devo dire che questa attenzione alla dimensione internazionale è una dimensione che ritroviamo alle origini dell'istituto. Naturalmente in condizioni politiche, sociali completamente diverse, ma quando l'istituto nasce nel 1947 è preceduto da un'intenzione precisa degli uomini che avevano diretto la resistenza in Piemonte di far conoscere quella che era stata l'opera della resistenza, ma farla conoscere agli italiani intanto, ma soprattutto farla conoscere in una dimensione internazionale. Si trattava di recuperare una dimensione e di riaffermare una dimensione internazionale sul piano internazionale della resistenza italiana. Le motivazioni, ripeto, erano molto diverse. Passa attraverso una fase che è iniziale già nell'agosto del 1945 attraverso le prime mostre organizzate dal pittore Felix de Cavero sulla resistenza in Piemonte, che poi avranno uno sviluppo l'anno seguente in occasione dell'apertura della conferenza di pace Parigi con una grande mostra organizzata dal CLN Alta Italia, ma sono gli stessi uomini che danno origine all'istituto. E questa attenzione alla dimensione la troviamo immediatamente nella stessa documentazione dell'istituto, soprattutto immediatamente con i contatti che vengono presi proprio nel tentativo e con l'intenzione di recuperare anche ritardi che si erano accumulati nei confronti di altri paesi europei, i contatti presi da Giorgio Vaccarino e da Sergio Cotta, allora direttore e segretario dell'istituto appena nato, a Parigi e ad Amsterdam, però portarono a una proficua e continuativa scambi con quella che allora era la Commissione di Stuardo dell'Equipazione e della Liberazione della France, che era diretta da Georges Lefebvre e d'Henri Michel e soprattutto con il comitè di Stuardo Laguerre che era presieduto da Lucien Federer. Ecco, una collaborazione internazionale che poi si concretizza tra il 48 e il 49 quando nasce l'istituto nazionale, l'attuale istituto nazionale Parri, l'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia. Ma basta scorrere i primi numeri della rivista che il movimento di liberazione, l'attuale che ha cambiato poi ovviamente cambiato nome, come sappiamo, ma basta scorrere i primi numeri perché ritroviamo sia il tema internazionale, gli articoli di Sergio Cotta e di Parri, tanto di Parri sulla resistenza agli alleati di Sergio Cotta sullo stato degli studi della resistenza in Francia, in Olanda e in Belgio, ma anche, e qui entriamo direttamente nel tema, gli articoli di Domeni Riccardo Peretti-Griva e di Alessandro Galante-Garrone sulla magistratura nella resistenza. Quindi è un filone che rientra pienamente fin dalle origini, sono filoni che rientrano fin dalle origini dell'istituto. In anni poi seguenti, qui vengo a un tema centrale e all'opera fondamentale che svolse Gianni Perona intanto su una raccolta e studi della documentazione alleata che nei primi anni 70 veniva, cominciava ad essere messa più ampiamente a disposizione negli archivi inglesi ed americani. Ed è un tema che Gianni Perona ha seguito per tutto il corso della sua vita, della sua esistenza, tant'è che ha dedicato proprio negli ultimi mesi della sua vita alla raccolta dei suoi scritti su questo tema, sul tema dei rapporti con gli alleati ed è l'ultima opera che ci ha lasciato e su cui abbiamo ragionato nel corso dei cantieri GL recentemente chiusi, assegnando il premio a Giorgio Agosti, ma su cui ci ripromettiamo di ritornare da un punto di vista di discussione scientifica su quei temi. Ma non solo, perché l'opera di Gianni Perona si è sviluppata anche in un rapporto internazionale con il CEDEI, il Centro d'Etudes e Documentation sull'immigrazione italienne, negli anni primi anni 90, nel 1991, e qui lo voglio ricordare, è una serie di convegni sull'immigrazione spagnola e italiana in Francia con l'Università di Salamanca e con il CEDEI. E qui dove Gianni ebbe un ruolo fondamentale. Ma altro punto di rapporto internazionale avvenne in un momento importante su un altro tema, il convegno internazionale sulla cultura operaia nella società industrializzata che venne fatto dall'Istituto in collaborazione col Centro Gobette e con altre istituzioni, un confronto internazionale che vide studiosi dagli Stati Uniti alla Francia, alla Germania, alla Polonia e che cadde però in un momento preciso, in un momento importante, perché sono gli anni in cui già erano evidenti e già in atto e in corso non solo i processi di deindustrializzazione, ma anche dei modi radicali di mutazione, dei modi di produzione industriale e i processi di destrutturazione o di decostruzione della classe operaia. E qui voglio ricordare il contributo non solo di Ersiglia Alessandrone Perona che mi ha preceduto nella direzione dell'Istituto per molti anni, per molti proficui anni, ma il contributo che diede Franco Ramella, che è scomparso recentemente, due settimane fa. Non mi dilungo sul progetto Interreg Memorie delle Alpi, Memoire des Alps, che è dal 2003 al 2006, che è un altro punto importante che ebbe poi delle conseguenze con le ricerche di Silvia Inaudi e di Anne Badino sulle migrazioni femminili attraverso le Alpi, ma per entrare direttamente nel nostro tema non si può non partire da quella ricerca pionieristica sulle corti d'assise straordinarie la cui documentazione allora era ancora conservata presso le sedi dei singoli tribunali e che poi ce ne dirà meglio Guido Nepimodona che abbiamo il piacere di avere qui con noi e che ebbe poi la sua pubblicazione in un volume ancora fondamentale oggi che è giustizia penale e guerra di liberazione. Ma questo aspetto comparativo ebbe già un primo momento nel 1996 con un convegno internazionale il giudice, lo storico, la società, la politica e i processi del dopoguerra 45-50 che venne svolto a Torino in collaborazione con il Goethe Institute e con il Centre Culturele Francais oggi scomparso e che vide la presenza di storici italiani tedeschi e francesi e mi piace ricordare che in quell'occasione come oggi ebbimo la presenza di Fabrice Virgili che è qui ancora oggi con noi e che darà il suo contributo. Quindi è un filo che questa ricerca e qui l'opera di Maria Di Massa in questo e la ringrazio ancora perché è la prosecuzione pur nelle difficoltà che noi oggi abbiamo di un percorso che guarda all'Italia nel contesto europeo e mondiale in un momento in cui i problemi della ricerca soprattutto della ricerca in campo umanistico diventano sempre più complicati. Chiudo ricordando soltanto che ieri in una tavola rotonda che abbiamo dedicato col coordinamento degli istituti culturali del Piemonte in collaborazione con l'AICI l'associazione degli istituti culturali italiani dedicato all'arragionamento su quali risorse e come dovrebbero essere impiegate le risorse europee del Recovery Fund nel campo della cultura. Uno dei problemi emersi è quello della difficoltà ma che conosciamo benissimo tutti soprattutto per quello che riguarda i giovani ricercatori di ritrovare un momento di stabilità e di possibilità di proseguire le ricerche. Si è citato in quella tavola rotonda questo ultimo volume di Edgar Morin proprio dedicato ai problemi legati all'attuale pandemia che è in modo significativo intitolato Saint-Jean-de-Wa e si è considerato questa parola chiave di un umanesimo rigenerato che dovremmo in qualche modo affrontare e voglio chiudere proprio ricordando le difficoltà che oggi incontra la ricerca sia per quello che riguarda il finanziamento pubblico ma anche quello privato voglio ricordare che è stato possibile dare a via questa ricerca con un lascito testamentario di una nostra socia Eleonora Vincenti a cui va il nostro pensiero grato. ho fatto questo brevissimo escursus e entriamo direttamente nel tema di questa seduta che è punire il collaborazionismo la giustizia straordinaria in Italia e in Francia quindi siamo in un ambito comparativo e do la parola direttamente a Toni Rovatti che è ricercatrice docente a contratto presso l'Università di Bologna e che ha una lunga collaborazione con l'Istituto Nazionale e con questa ricerca ricordo in particolare la sua collaborazione come componente del Comitato Scientifico nel progetto sulle stragi di ricerche e banca dati sulle stragi nazifasciste in Italia prego buonasera intanto saluto tutti e ringrazio delle opportunità io cercherò di fare un escursus generale sulle ricerche sulle corti d'assiste straordinarie cercando di fare un quadro complessivo a livello nazionale riservandomi soltanto nella seconda parte del mio intervento di fare qualche osservazione invece sulle prospettive di ricerca e dando un po' per scontato l'oggetto della nostra discussione nel senso che non rientrerò sulla natura e la complessità delle corti d'assiste straordinarie sulla loro struttura e sulle loro prassi le corti d'assiste straordinarie sono al centro come dire di una riflessione a partire sicuramente dalla metà degli anni Ottanta e come è stato già sottolineato da chi mi ha preceduto sono state il tema di ricerca prioritario già appunto negli anni Ottanta dell'Istituto Piemontese attraverso la ricerca coordinata da Guidone Pimodona che è stata una ricerca che ha anticipato in realtà una sensibilità che è stata successiva in altri territori le corti d'assiste straordinarie sono al centro di una riflessione che io credo vada impostata all'interno di uno sguardo sulla giustizia straordinaria in confronto alla dimensione ordinaria e va sempre considerato la loro alternanza o successiva competenza con la dimensione della giustizia ordinaria delle corti d'assiste ma anche della giustizia militare per riallacciarsi comunque al tema dei due seminari che ci hanno preceduto come tutti credo o sappiano le corti d'assiste straordinarie sono guidate nella loro azione giudiziaria da due testi di legislazione speciale che sono il decreto legge luogo tenenziale del 27 luglio 1944 e quello del 22 aprile 45 e sono fortemente condizionate anche dalle missioni dell'amnistia del 22 giugno del 46 appunto dopo è scontato il fatto che si conosca la loro natura dal punto di vista di un utilizzo del codice penale militare di guerra e quindi che operino attraverso i reati di aiuto al nemico applicando quindi anche in maniera straordinaria una componente civile quello che è il codice penale militare di guerra così come la composizione ibrida di queste stesse corti che prevede una presenza sia di giudici popolari che di giudici ordinari quindi vari profili di straordinarietà ecco questo diciamo sistema peculiare di punizione delle sanzioni al fascismo in particolare del reato di collaborazionismo attivo in Italia tra il 45 e il 47 è al centro dell'attenzione già di uno sguardo internazionale negli anni 90 e sicuramente sono da citare gli studi di Roy Palmer Domenico che viene come dire del 91 ma poi tradotto nel 96 ma soprattutto quello di Hans Fuller sui conti con il fascismo che al centro di un'analisi generale sull'epurazione italiana e con uno sguardo politico che va dai primi provvedimenti del governo Badoglio fino appunto alla al 1948 insomma la chiusura di una lunga fase come dire di sguardo alla punizione all'epurazione analizza anche per la prima volta forse in maniera come dire organica la strada italiana per la punizione degli ex nemici nel dopoguerra questo questa attenzione internazionale negli anni 90 al di là del caso come dire piemontese torinese secondo me mette in evidenza come ci sia una sorta di ritardo nella ricerca nazionale che è legata all'oggetto di studi comunque del collaborazionismo inteso come attenzione alla repubblica sociale italiana proprio per inciso vorrei dire che l'oggetto appunto del fascismo repubblicano assume una dignità dal punto di vista storiografico e esce da uno sguardo politico ideologico soltanto alla metà degli anni 80 e grazie anche a una serie di convegni organizzati dalla fondazione Micheletti che hanno la capacità di rinserire l'esperienza dell'RSI all'interno di un'idea di collaborazionismo internazionale e di ridare fisionomia a questo oggetto ciò nonostante credo che per avere uno sguardo d'insieme non va dimenticata un'attenzione invece giuridica all'esperienza delle corti d'assise straordinarie che è già viva nei primi anni del dopoguerra io chiederei a Nicolò Dalio grazie e che si centra soprattutto sullo studio di Giuliano Vassalli e di Giuseppe Sabatini del 47 che con uno sguardo di analisi prettamente giuridica guarda al collaborazionismo e all'amnestia politica e soprattutto la giurisprudenza della corte di Cassazione perché questo primo studio ha il merito di osservare già un'analisi delle scelte politiche del legislatore mettendo in evidenza come vi sia nel caso italiano una scelta precisa di non configurare i reati del fascismo repubblicano come reati di guerra civile ma come reati di collaborazionismo con una dimensione interpretativa e suggestione che già insita all'interno della scelta cioè quella di non dare un'autonomia forte alla dimensione dei crimini del fascismo repubblicano ma di considerarli appunto soltanto in collegamento con l'aiuto al nemico e quindi con l'esperienza dell'occupazione nazista questo è fondamentale per un'esperienza come quella del fascismo che ha dei connotati ovviamente specifici rispetto agli altri collaborazionismi e questo ci mette in luce secondo me anche come la giurisprudenza delle corti d'assistra straordinarie abbia un elemento forte che è quello di legittimazione del nuovo stato democratico e di uno sguardo che proprio per la contestualizzazione militare mette al centro i crimini contro la componente partigiana più che rispetto a quelli rispetto alla componente civile detto questo cerco di fare appunto un veloce quadro storiografico degli studi che tra la metà degli anni ottanta ed oggi sono stati sviluppati all'interno dei diversi territori ovviamente soffermandomi soprattutto sulle ricerche strutturate come dicevo il caso torinese è quello in assoluto che è più precoce e lo studio giustizia penale e guerra di liberazione che metteva oltretutto a confronto anche l'esperienza punitiva sui collaborazionismi e anche la seconda la fase successiva sulla punizione e sui processi alla resistenza dell'ottantaquattro metteva in evidenza proprio un'attenzione anche alle fonti da parte di recupero delle fonti e un guardo documentario in cui l'istituto piemontese si era dimostrato particolarmente attento anche se possiamo dire che anche negli altri territori sono gli istituti della resistenza ad essere stati gli organismi e gli istituti per eccellenza che hanno posto più attenzione alle corti d'assidio straordinarie nel caso piemontese l'attenzione precoce è stata poi sviluppata in anni recenti sicuramente dal contributo in particolare di Maria di Massa e dall'attenzione a una nuova ricerca e una nuova attenzione di schedatura sia ai fascicoli che alle sentenze delle corti d'assidio straordinarie e alla messa in luce e riconfigurazione anche dell'attenzione della particolarità dell'esperienza piemontese come tutti è noto per il ruolo anche nella resistenza della dimensione della magistratura sul territorio con la figura per eccellenza di Tegriva che ha poi un ruolo anche all'interno della dimensione epurativa più complessiva e politica di particolare attenzione oltre appunto al nuovo progetto di una banca dati e di una schedatura complessiva dei materiali è senza dubbio l'attenzione per il linguaggio secondo me che in un ultimo intervento di Maria Di Massa uscito su Quale Storia nel 2019 è posta l'attenzione cioè un saggio in cui l'autrice lavora sull'uso dei concetti e delle parole all'interno delle sentenze in questo caso su nazione e antinazione e sui giudizi quindi politici che vengono inseriti all'interno della struttura e della stesura delle sentenze al di là in realtà di un giudizio penale e nel lavoro in corso è ovviamente collegato anche alla ricerca di Barbara De Luna che sta invece facendo proprio un progetto comparativo sulla dimensione sulle corti piemontesi e le corti francesi di cui ci parlerà successivamente l'altro esempio che si dimostra particolarmente precoce nella sensibilità dell'istituto Ligure di recuperare le fonti relative alle corti d'assiste straordinarie e i fascicoli ancora depositati presso gli archivi dei tribunali appunto è quello Ligure e peraltro soffermandosi su quello che è al momento tra il 45 e il 47 il distretto Ligure che comprende non solamente le corti d'assise straordinarie regionali ma anche la provincia di Apuania e che si svolge negli anni 90 come raccolta di fonti ma anche in questo caso abbiamo una riemersione di attenzione sotto il coordinamento di Elisabetta Tonizzi a partire da anni recenti con appunto una riorganizzazione dei materiali e anche una serie di interventi sulla peculiarità del distretto giudiziario Ligure questi sono diciamo i casi nei quali le fonti sono state riorganizzate in maniera più chiara molto più frammentaria è l'esperienza del Veneto che ha una prima fase di attenzione con un numero monografico della rivista Venetica nel 98 che vede tutta una serie di contributi sulle porti d'assistitiva straordinarie provinciali su Verona Venezia e anche le altre province e parallelamente un'attenzione specifica anche su sempre degli anni 90 sul caso di Rovereto da parte di Giannis Parapan sul Polesine anche nel caso Veneto però vi è stata un'attenzione della nuova generazione di ricercatori e soprattutto di Andrea Martini che ha poi pubblicato il suo studio per la sua tesi di laurea presso l'Università di Padova con un'attenzione alle curazioni delle collaborazioniste nelle province venete e successivamente anche con dei quadri invece qualitativi come quello sul processo al battaglione Muti che viene pubblicato per Contemporanea nel 2017 che mette in evidenza anche la particolarità in cui si svolgono questi processi cioè dei processi che vivono come dire tutta la problematicità di una necessità di frenare la reazione pubblica e la violenza territoriale contro i fascisti locali e che a volte vedono anche delle espressioni di violenza contro imputati o anche contro gli stessi avvocati difensori o gli stessi giudici all'interno dei processi altri casi che sono stati riposti all'attenzione sempre negli ultimissimi anni sono quello di Treviso con una riorganizzazione delle sentenze e anche una trascrizione delle sentenze da parte dell'istituto trevigiano e da parte di René Bolson ma anche un'attenzione invece sulla provincia di Belluno da parte di Fabio Verardo l'attenzione e gli studi di Verardo sono però ricollegati a un tema specifico all'interno dello studio delle quarti d'assiste straordinarie che ha caratterizzato questi studi territoriali nell'ultima fase quindi un'attenzione specifica alle zone d'operazione sotto il diretto controllo dell'occupante tedesco quindi le zone d'operazione del litorale Adriatico e delle prealpi che sono state al centro di una lunga stagione di studi negli ultimi in un'intensa stagione di studi negli ultimi quattro anni perlomeno da parte di René Bolson e Fabio Verardo sia sulla corte di Trieste sia sulla corte di Udine entrambe contraddistinte da delle specificità la corte d'assiste di Trieste in realtà agisce opera con una normativa specifica sotto il governo militare alleato proprio come zona di confine e su cui ancora c'è un problema di legittimità come dire rispetto alla dimensione del nuovo governo democratico italiano al punto tale che la corte di secondo grado ed appello non è la Cassazione ma è la corte d'appello di Trieste scusa ma è il quarto d'ora siamo a un quarto d'ora ok grazie mille vado velocissima Irene Bolson ha posto invece un'attenzione maggiore anche al confronto tra comunità giuliane e all'interno dei processi con anche l'esperienza istriana proprio perché la competenza come dire della corte d'assistica di Trieste guarda anche alla dimensione dell'intera zona del litorale adriatico che comprende anche territori poi persi dall'Italia e anche alla specificità del collaborazionismo femminile triestino e del problema anche dei beni ebraici sul caso di Trieste un'attenzione altrettanto specifica sulla zona di confine è quella di Lorenzo Gardumi sul Trentino ma diciamo che forse i due casi più interessanti che contraddistinguono l'ultimo periodo sono quelli delle corte d'assise straordinarie e poi sezioni speciali di corte d'assise del Lazio scusate di Roma e di Milano che sono per eccellenza le corti che guardano di più alle classi dirigenti anche qua ho la possibilità molto rapida di nominare soltanto il lavoro di Martini in generale sul Lazio ma che ci offre una cronologia distinta per il caso romano che ci mostra come dire la diversità anche di organizzazione di queste corti tra le corti del nord e rispetto alle corti come dire centrali spesso chiamate anche dopo degli annullamenti in Cassazione come corti di rinvio di nuovi processi di primo grado ma forse è ancora più interessante il caso di Milano che dopo aver essere stato al centro degli studi di Roberto Canosa già nel 78 e poi di una tesi di laurea nel 2014 di Lucia Reggiori presso l'Università di Pisa è stato ripreso da Leonardo D'Alessandro nell'ultimo studio del gruppo di ricerca appunto legato all'Istituto Nazionale Parri e che proprio guardando alla dimensione della classe dirigente dell'RSI ha messo in evidenza e ha sottolineato questo doppio binario di giudizio cioè una una dimensione di giudizio penale che spesso viene ridotta depenalizzata nel corso degli anni ma che si associa a una dimensione di giudizio politico a volte in contrasto con gli effetti penali delle stesse sentenze il caso Lombardo è poi stato al centro di una tesi di dottorato quella di Laura Bordone che ha appena vinto il premio Pavone e che ci ha permesso di dare uno sguardo complessivo al caso della Lombardia con un'attenzione specifica anche alla commissione di giustizia del CLN Lombardo e ha un'attenzione anche alle condizioni stesse di azione di queste corti dal punto di vista materiale e quindi la carenza di uomini intesi come giudici ma anche la carenza di risorse e un'attenzione specifica anche al collaborazionismo economico come suggeriva Luciano Boccalate nell'intervento che mi ha preceduto la in realtà l'interesse la riscoperta dell'interesse alle corti d'assise straordinarie è stata fortemente collegata anche allo studio sulle stragi naziste fasciste in Italia e questo fin dall'inizio cioè possiamo ricordare come già nel 2005 la prima fase della ricerca sulle strade si concludeva con due volumi uno sui crimini a memoria di guerra ma l'altro su giudicare e punire cercando di fare un quadro a livello internazionale sui processi per crimini di guerra tra diritto e politica la ricerca nell'ultima fase invece che si è conclusa nel 2016 ha dato vita anche a una banca dati dell'istituto nazionale che speravo di riuscire a farvi vedere ma non ne ho il tempo magari lo faremo nel dibattito e che al momento ha censito oltre 4.000 procedimenti su 5.870 imputati circa e che è una banca dati che serve soprattutto per la consultazione della documentazione delle sentenze che è raccolta in un archivio digitale presso l'istituto nazionale l'ultimo quadro territoriale al centro della ricerca è quello dell'Emilia Romagna che ha visto appunto un'attenzione degli studi a partire dalla metà degli anni 90 un'attenzione e piccole ricerche locali sul Forlivese e il Bolognese ma che soprattutto è il centro attualmente di un progetto di ricerca degli istituti storici dell'Emilia Romagna in rete con la presenza come ricercatori di Chiara Meloni Federico Chiaricati e Simeone del Prete che riguarda le province di Reggio Emilia Ferrara e Modena e che anche questo ha un suo sito internet che se riusciamo vi farò vedere successivamente e che cerca di mettere in evidenza come la banca dati sulle informazioni sulle sentenze è molto tecnica molto scientifica e di ricerca e forse anche non proprio amichevole costituita dal nazionale sia in qualche modo proposta con un riguardo qualitativo e che offra un'attenzione anche di sintesi sulle singole corti attraverso invece un portale la ricerca ha dato vita anche a una serie di studi collettivi sicuramente quello a cura di Focardi Nubola sui protagonisti della giustizia di transizione e quindi le figure che operano dentro i tribunali ma anche come vi dicevo un'attenzione specifica sull'azione giudiziaria sul confine orientale da parte di Verardo e Bolson lo studio che abbiamo proposto sotto la cura mia di Cecilia Nubola e Paolo Pezzino che cerca di dare uno sguardo di confronto tra la giustizia straordinaria e la giustizia militare rispetto alla punizione del dopoguerra e sicuramente un testo essenziale di prima sintesi è la monografia di Andrea Martini sui processi fascisti e ai collaborazionisti tra il 44 e il 53 che è uscita da Viella nel 2019 diciamo che il tema della giustizia di transizione ovviamente è un tema anche di confine rispetto a uno sguardo giudiziario e si è confrontato con due categorie fondamentali quella della giustizia politica e quella della giustizia di transizione anche nella sua accezione di definizione più tecnica in ambito giuridico di cui è espressione l'ultimo lavoro di Paolo Caroli sul potere di non punire che mette al centro di uno sguardo sul caso italiano soprattutto l'esperienza dell'amnistia come giustizia di transizione quindi un tema di frontiera che cosa si può dedurre da questo quadro generale sicuramente che rimangono da studiare le province centrali in particolare Ancona e ancor più Perugia come sedi di rinvio di secondo grado ma anche un'attenzione particolare si potrebbe rivolgere alla corte dell'Aquila che ha la specificità di avere contemporaneamente una fortissima espressione di giustizia sommaria in parallelo con la liberazione dei territori e che quindi vede la competenza parallela di corte d'asside straordinarie sul collaborazionismo e corti d'asside ordinarie su le violenze del dopoguerra e poi un enorme come dire vuoto ancora attualmente c'è sul caso della Toscana al di là dello studio di Matteo Bennati sulla corte di Lucca c'è un'attenzione indiscussa negli ultimi dieci anni specifica sul collaborazionismo femminile e anche sui collegamenti di continuità tra la dimensione dell'esperienza delle giustizie della fase insurrezionale di cui ci ha parlato Fabio Verardo nello scorso seminario e l'esperienza delle corti d'asside straordinarie soprattutto con una continuità di indagini e istruttorie che è di particolare interesse nonché sulla con dialogo di contrasto contenimento ma anche opposizione tra l'esperienza delle corti d'asside straordinarie quindi un'esperienza legalitaria e l'esperienza invece di forme di giustizia sommaria e di violenze che cosa si può dire degli studi dell'ultimo periodo sicuramente la presenza di una maggiore articolazione cronologica all'interno dei singoli territori ma anche un'attenzione come vi dicevo specifica al giudizio politico al linguaggio al di là dei verdetti e un io credo anche una iniziale nuova attenzione al confronto con la dimensione dell'epurazione amministrativa e dell'avocazione dei beni di regime che sono gli altri due grandi filoni del decreto istitutivo sulle sanzioni al fascismo e che corrono parallele alla giustizia penale ma che ad oggi dovrebbero essere ricomprese in un quadro tematico generale mettendo in evidenza come le scelte politiche anche il passaggio tra le corte d'assise straordinarie e le sezioni speciali di corte d'assise che avviene in parallelo con l'emissione del decreto Nenni rispetto all'epurazione ci mostri come ci sia anche una compensazione politica tra queste tre filoni paralleli quindi uno sguardo multidimensionale di respiro che in realtà sia capace nel lungo periodo forse di permetterci definendo maggiormente l'oggetto delle corte d'assise straordinarie anche di guardare alla giustizia all'esperienza della giustizia straordinaria in un quadro di lunghissimo periodo in realtà dall'unità almeno agli anni 70 come un'esperienza caratteristica del diritto penale italiano riprendendo la suggestione di Mario Sbriccoli come caratteristica fondante io credo che in questo senso le esortazioni gli spunti di Nicola la banca che ci offriva su vari livelli per quanto riguardano la giustizia militare potrebbero assolutamente permetterci oggi di rinserire la giustizia straordinaria delle corte d'assise straordinarie in un quadro più ampio e caratteristico della storia d'Italia vi ringrazio grazie a Tony Rovatti per questo questa ricognizione che è utilissima sullo stato degli studi dell'arte e accennando anche le condizioni delle fonti i silenzi le lacune che le fonti ci pongono ci sono due aspetti che a me pare interessante sottolineare soprattutto l'ultimo che è quello della necessità di inserire questo tema all'interno di una storia di più lungo periodo ma anche gli altri due aspetti l'attenzione al linguaggio e soprattutto una cosa che a me sta particolarmente a cuore anche in altri settori la necessità ormai inderogabile ma presente già in molte opere di avere un occhio almeno europeo sulla sulla nostra storia grazie davvero io lascio adesso do adesso la parola a Guidone Pimodona presentazioni non sarebbero assolutamente necessarie ma ricordo che è stato docente ordinario di istituzioni di diritto e procedura penale all'Università di Torino giudice di corte costituzionale di cui è stato vicepresidente e che è anche componente autorevole del nostro consiglio direttivo Guido ci parlerà di un tema specifico i giudici dimenticati i presidenti delle corte di assise straordinarie piemontesi tra il 1945 e il 1947 prego Guido apri il microfono mi sentite adesso benissimo allora Tony Rovatti ci ha dato un quadro generale una panoramica generale sullo stato dell'arte nelle varie regioni italiane io direi all'estremo opposto mi occuperò di una situazione molto molto specifica e cioè di quelli che ho chiamato i giudici dimenticati cioè i presidenti delle corte di assise straordinarie piemontesi anzi torinesi e esaminerò nove di questi giudici l'attività delle casche amate a giudicare appunto i reati di collaborazionismo col tedesco invasore come sappiamo è stata già oggetto di numerosissime ricerche più che altro sui contenuti delle sentenze emesse dalle casche mentre sinora scarsa attenzione è stata dedicata ai giudici chiamati a presiedere quelle corti mi sembra se non va da dato che solo Giovanni Focardi per quanto mi risulta si è occupato di questi giudici ne ha esaminati ha esaminato i fascicoli personali di 64 di presidenti e compatibilare attenzione alle loro posizioni nei confronti del regime del regime fattista qui come ho detto io mi occuperò di nove di questi presidenti che come sapete erano nominati dal presidente della corte d'appello tra magistrati di grado non inferiore consigliere di corte d'appello mentre le funzioni di pubblico ministero erano affidate a magistrati designati dal procuratore generale della corte d'appello anche tra avvocati di ineccepibili precedenti politici è un po' strano che questi ineccepibili presidenti politici non siano stati richiesti nei confronti dei pubblici ministeri ministeri di carriera ma forse perché nessuno di questi aveva dei precedenti politici ineccepibili dipendevano direttamente dal ministero della giustizia e quindi nel periodo fascista erano più o meno compromessi bene il presidente della corte d'appello di Dorino era Domenico Peretti di Riva e procuratore di Navegia Cinto Gozzi entrambi notoriamente antifascisti tant'è vero che sin dal 1944 dal luglio del 1944 erano stati clandestinamente nominati dal CLN regionale piemontese rispettivamente primo presidente e procuratore generale della corte d'appello ed entrarono effettivamente in funzione il giorno stesso pochissimi giorni dopo la liberazione si deve tenere anche presente che tra 1940 e 1945 il clima della corte d'appello nel distretto di corte d'appello di Torino era molto pesante perché sia il primo presidente Ciro Gini che il procuratore generale Rosario Giglio erano ferventi fascisti ed esercitavano un controllo ferro politico e anche personale sui magistrati che erano loro sottoposti tanto è vero che entrambi il primo presidente e il procuratore generale sin dal luglio del 44 erano stati destituiti dal CLN regionale piemontese con decreti che sono poi diventati immediatamente operativi subito dopo la liberazione entrambi si ha detto per inciso che erano poi richiamati in servizio il primo nominato presidente di sezione della Cassazione rimase in magistratura fino al 1950 il secondo viene collocato a riposo per linee di vietà il primo agosto del 1946 questi sono dunque i personaggi che dirigono la Corte d'Appello di Torino e questo è il clima in cui Domenico Riccardo Peretti e Grila si trova a nominare per i che sono destinati a svolgere funzioni di giudizio e di pubblico accusa nelle corti d'assise straordinarie per evidenti motivi di opportunità la scelta non poteva ricadere sui magistrati più brillanti e più ambiziosi che per convenzione politica o per opportunismo non avevano esitato a manifestare pubblicamente la loro fede fascista Peretti Grila il procuratore generale vanno a nominare magistrati assolutamente normali tutti naturalmente iscritti al partito nazionale fascista ma non particolarmente compromessi con il regime durante il regime avevano percorso un'ordinaria carriera senza infamia e senza lodi dall'esame dei fascicoli personali di questi nove consiglieri di corte d'appello il presidente del presidente dei casi di Torino emerge la profonda frattura che divide la magistratura italiana nel ventennio successivo alla liberazione da una parte ci sono i magistrati normali non particolarmente collusi con il regime cui si rivolgono peretti Grila e Bozzi per far funzionare le casse dall'altra parte ci sono gli altri magistrati profondamente compromessi con il regime transitati direttamente dalle posizioni di prestigio che già ricoprivano durante il fascismo transitati da quelle posizioni ai vertici del sistema giudiziario nell'Italia democratica e repubblicana esempi direi emblematici di questa insormontabile frattura fra valta e la bassa media magistratura sono puntualmente documentati dai risolti negativi della carriera dei nuovi presidenti delle casse presi in esame cinque di essi avevano ricevuto note di elogio di encomio particolarmente lusinghiere e calorose dal presidente e dal procuratore generale della Corte d'Appello di Torino per l'attività svolta quale presidenti delle casse in procedimenti in cui si discutevano reati molto gravi in un clima molto spesso infocato bene questi vengono godati indipetutamente calosamente per come avevano condotto quei processi ebbene è ragionevole il sospetto che l'attività svolta quali presidenti delle castorinesi non abbia giovato anzi abbia danneggiato la loro successiva carriera due di loro Ligio Nelito e Luigi Mozza due di loro era stata in primi stanza negata l'idoneità alla promozione a consigliere di Cassazione e presentano ricorso alle sezioni uniste del consiglio superiore della magistratura che allora era in larghissima maggioranza formato da magistrati di grado superiore a consigliere di Cassazione addirittura 9 su 13 componenti cioè persone che avevano già fatto arrivati a livelli alti di carriera durante il regime fascista ebbene il CSN a sezioni unite respinge i ricorsi diciamo in manza del 10 marzo 1951 sulla base di valutazioni che non esiterei a definire umilianti e denigratorie quanto al dottore Enrico che aveva ricevuto due incommi sovegni speciali da Peretti Griva il CSN dato dei riconoscimenti ricevuti per l'attività di presidente delle cast tolinesi ma puntualizza che i lavori giudiziari del candidato riesaminati con particolare attenzione presentano frequenze e errori sostanziali anche piuttosto grossolani nell'applicazione delle norme di legge i quali ingenerano grave prepressità in alcuni componenti del consiglio sulla sicura padronanza degli istituti giuridici da parte del candidato bocciato è anche questo dottor Motta anche qui il CSN prende atto degli elevati apprezzamenti dei superiori diretti ma rileva che alcune delle sentenze sono estese in forma spesso involuta con uso frequente di frasi improprie e poco corrette sono presenti in esattezza e in precisione di terminologia che lasciano sospettare deficienze anche gravi di cultura giuridica e quindi dice ci sono scarse dotti di dottrina di tecnicismo giuridico in realtà questi giudizi così così sprezzanti negativi sconfessano anche i capi delle corgi di Torino Peretti di Riva e Jacinto Bozzi soprattutto Peretti di Riva Satiam era molto in viso ai vertici diciamo i fascisti della magistratura a Roma e teniamo presente che valutazioni così severe vengono prese nella adunanza del CSN presieduta dal procuratore della Cassazione Antonio Azzara che ha alle spalle un imbarazzante passato filofascista e antisemita anche gli altri tre presidenti delle CAS che erano stati calorosamente incommiati dai capi della corte della Pello di Torino sono giudicati sono giudicati giovani idonee alla promozione ma con valutazioni poco dosinghiere pensate che uno di questi si presenta dal 48 al 50 dal 48 dal 48 a 8 concorsi per la promozione a Cassazione e solo nel 1955 viene giudicato idoneo con un punteggio molto basso per il precedente alquanto modesti e la mediocre produzione juridica un altro di questi partecipa dal 47 al 53 ad almeno 6 concorsi e finalmente viene dichiarato idoneo al 56 benché non in possesso di escezionali doti di intelligenza e di cultura bene allora questa è la situazione di questi magistrati che vengono in un certo senso castigati per la loro attività di presidenti delle casse piemontese l'idea iniziale di questa ricerca era di riportare alla memoria l'esistenza e la meritoria attività di dei giudici chiamati a presiedere le casse di Torino ma dall'esame dei relativi fascicoli personali è invece emerso inespetatamente che la loro attività lungi dal costituire un titolo di merito ha avuto effetti negativi sulla carriera che allora continuava a essere nelle mani degli altri magistrati che in perfetta continuità con gli ultimi anni del regime avevano poi raggiunto i vertici del sistema giudiziario militare democratica e repubblicana in particolare esaminando i fascicoli personali di questi nuovi presidenti abbiamo incrociato altri magistrati di sicura fede fascista da quali Antonio Azzare Ernesto Eula Antonio Manca e Luigi Oggioni che avevano già ricoperto cariche di rivievo negli anni del regime ed ultimo Oggioni anche in una repubblica sociale italiana ritrovarli in posizioni diverse 10-15 anni dopo la definitiva caduta del fascismo ci ha permesso di seguire la loro quotidiana attività di governo della magistratura e di toccare con mano sulla pega dei presidenti di sezione delle cazze di Torino gli effetti tangibili e concreti della continuità nel mondo della giustizia gli occasionali incontri con questi quattro altissimi magistrati suggeriscono di riservare loro in quanto esempi emblematici della continuità degli uomini che si sono succeduti ai vertici della magistratura italiana prima e dopo la caduta del fascismo pensate che alcuni sono poi anche approdati alla corte costituzionale meta-ambitissima in quanto tra l'altro consentiva di rimanere in carica allora per 12 anni senza limiti di età e allora vediamo qualche tazzo su questi quattro magistrati Antonio Azzara consigliere di Cassazione dal 31 e dal 36 presidente di sezione nel 1939 ha espresso la sua adesione alla nuova rivista al diritto razzista di cui aveva fatto anche parte per un breve periodo del comitato scientifico componente dal 41 al 43 del CSM del Consiglio Superiore di Disciplina era stato sottoposto a giudizio di appurazione per l'apologia di fascismo che aveva fatto propaganda del regime fascista e delle sue istituzioni ma era stato successivamente prosciolto in quanto si era rifiutato ad autunno di seguire la Cassazione istituita a Brescia dalla Repubblica di Salò lo ritroviamo tra il 51 e il 53 procuratore generale della Cassazione e poi per pochi mesi primo presidente della Cassazione il secondo è Ernesto Eula consigliere di Cassazione nel 34 avvocato generale per la Cassazione nel 42 era assai ben inserito nel regime fascista collaboratore della rivista Echie Commenti con articoli che giustano la trasformazione dello stato fascista ormai attuata sotto i segni della rivoluzione mussoliniana della romanità estimatore della rivista Il diritto razzista di cui ha apprezzato la nobiltà del fine ed intrinseco altissimo pregio componente del GSM della sua prima volta disciplinare per il 41 e il 43 collaboratore nel medesimo periodo dell'ufficio legislativo del direttore del partito nazionale fascista viene sottoposto al giudizio di operazione dispensato dal servizio nel novembre del 44 poi ricorre e viene riammesso in servizio perché è stato valutato positivamente l'atteggiamento tenuto contro i tedeschi dopo l'8 settembre del 43 nel periodo repubblicano del procuratore generale della Cassazione nel 53 e nel 54 e poi primo presidente della Cassazione fino al giugno del 59 cioè per 4 anni Antonio Manca è stato uno dei consiglieri di Cassazione componente del tribunale della razza insieme a Gaetano Azzariti che ne era presidente e a Giovanni Petracconi nel 44 è distaccato per somministro della giustizia e copre la carica di direttore generale del personale sottiguale da Sicili Tupini e poi Togliatti per il quale svuogia anche attività di consulenza dal 16 ottobre del 54 al primo luglio del 56 è procuratore generale della Cassazione e dal 3 luglio del 56 è giudice della Corte Costituzionale eletto dai collegi della Cassazione e rimane in carica fino al termine del mandato nel 1968 l'ultimo è Luigi Oggiomi che segue dopo l'8 settembre del 43 la Repubblica Sociale Italiana ovvero consigliere della Cassazione istituita a Brescia passa senza colpo ferire nell'Italia libera e il 10 ottobre del 59 succede a Eula quale primo presidente della Cassazione carica che ritiene fino al marzo del 1962 quando va in pensione per vini di età questo è un esempio eccezionale di longeva continuità al vertice del sistema giudiziario la sua carriera procede anche dopo il pensionamento nel 1966 è nominato giudice della Corte Costituzionale dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat e rimane in carica dal 1975 tra il vice presidente sino al termine del mandato nel 1978 Luigi Orzioni era passato diventato consigliere di Cassazione nella Repubblica di Salò in effetti per concludere possiamo dire che solo tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta non troveremo più in posizione di maggioranza gli ordini del suo governo e della magistratura non fosse altro che per motivi generazionali i nostalgii del fascismo che avevano costruito la loro carriera durante il regime e poi avevano dimostrato in periodo repubblicano scarsa simpatia per usare un eugenismo nei confronti dei più giovani colleghi non compromessi o meno compromessi con il regime specie quelli che avevano poi svolto funzione di presidenti delle corti d'assise chiamate a giudicare i reati di collaborazionismo con i tedeschi e con i nazi fascisti della Repubblica sociale italiana grazie per la vostra attenzione grazie Guido per questo tuo illuminante percorso su un caso di studio che ci riporta al tema centrale che è quello dibattuto ormai storiograficamente da molti anni del puoi posare un po' più forte si se riesco si aspetta alzo un po' il il ecco senti meglio senti meglio un pochino un pochino adesso aspetta che mi è ecco qui perché più di così non riesco ad alzarlo proprio all'apparecchio no ti ringrazio per questo tuo caso di studio perché ci riporta ad un tema che è quello centrale cruciale che è quello della continuità e delle rotture tra il regime fascista e l'Italia repubblicana e ci riporta però ad un altro punto cruciale che è di una mancata il mancato i mancati conti fatti con il nostro passato fascista quindi ti sono particolarmente grato ti siamo particolarmente grato anche perché sei rimasto perfettamente nei tempi stabiliti grazie lascio do adesso la parola e con piacere a Fabrice Virgili che è docente all'università di Parigi Pantheon Sorbonne ma non solo è direttore adjoint dell'UMRS Siris e si è occupato in particolare di epurazione di storia di genere ricordo il suo volume sulle tendue e ricordo con piacere anche il suo intervento nel convegno che ricordavo prima del 96 e gli do la parola e ci parlere su justice militaire o straordinario le conflitti di competenza a la liberazione della france ciao c'è c'è toujours un plaisir de de vous retrouver même à distance j'ai hâte comme vous tous j'imagine que nous nous retrouvions comme nous l'avons déjà été autour de la même table aujourd'hui je suis désolé je vais intervenir en français mais en essayant de parler le plus clairement possible je voulais revenir sur les problèmes de compétence entre les différentes juridictions mises en place pour juger les collaborateurs les traîtres en un mot les ennemis je vais m'appuyer pour cela sur une présentation j'espère que ça va marcher est-ce que vous voyez bien oui c'est bon oui oui parfait donc voilà la question pourrait être assez simple dès le début de l'occupation que ce soit en France occupée du côté de la résistance ou alors à Londres du côté de la France libre on se demande comment le jour venu il faudra punir les ennemis la question est assez simple qu'est-ce qu'on juge qu'est-ce qui se cache derrière ce mot de collaboration ou d'ennemis qui juge t-on justement qui sont ces ennemis et enfin qui juge et c'est autour de ce qui juge que je vais plus précisément m'arrêter aujourd'hui qui juge c'est-à-dire quel tribunal sachant que le processus dont je vais parler aujourd'hui commence avec le premier jugement en mars 1944 c'est un tribunal militaire qui juge des gardiens pour leur brutalité d'un camp en Algérie sous Vichy enfin d'un camp sous Vichy en Algérie ils sont jugés après le débarquement allié en Afrique du Nord et je vais aller au risque de vous surprendre jusqu'en en 1998 pour le procès de Maurice Papon qui était secrétaire général de la préfecture de la Gironde pendant l'occupation au cours de ces de cette longue période on trouve des juridictions militaires des tribunaux d'exception mais aussi des cours d'assises ordinaires pour juger ses ennemis c'est le passage de l'une à l'autre de ces juridictions que je vais essayer de préciser avec comme vous le voyez sur l'image que vous avez quatre moments différents d'abord quel tribunal juge avant la libération que se passe-t-il ensuite au moment de l'été et de l'automne 1944 entre les cours martiales militaires et les nouveaux tribunaux extraordinaires puis de 1945 à 49 où un des principaux problèmes de compétences entre tribunaux militaires et cours de justice extraordinaires sont les étrangers en France et puis enfin que se passe-t-il après 1949 quand les tribunaux extraordinaires sont fermés mais que certains cas se présentent encore donc tout d'abord je voudrais rappeler que du côté de Vichy aussi on a cette hésitation entre justice militaire et justice extraordinaire pour mémoire je vous ai mis le jugement par contumace d'un certain colonel de Gaulle condamné à mort en août 1940 par le tribunal militaire permanent de Clermont-Ferrand c'est la justice militaire j'ai envie de dire ordinaire qui condamne de Gaulle pour désertion je vous ai mis en dessous cinq différentes lois ou décrets qui mettent en place des juridictions exceptionnelles deux sont d'un ordre militaire la cour martiale spéciale en septembre 1940 pour juger les officiers déserteurs et en janvier 1944 les cours martiales de la milice dans le cadre de la répression féroce menée par la milice française au cours du premier semestre 1944 trois autres au contraire sont plus de l'ordre de juridiction d'exception politique que ce soit la cour suprême de justice au début les sections spéciales en 1941 et enfin le tribunal d'état où là directement il y a soumission de la magistrature au pouvoir politique celui du maréchal Pétain et de son gouvernement donc ça c'est du côté de Vichy du côté de la France libre on a également une réflexion en ce sens avec deux problèmes un comment faire rapidement si on a à juger un collaborateur ou un traître qui est pris par la résistance deuxième problème parce que toute la résistance et la France libre fonctionnent sur l'espoir de la libération que ferons-nous le jour venu de la libération et donc dès septembre 1941 des juristes autour de René Cassin réfléchissent aux mesures à prendre une fois la libération faite là aussi c'est surtout à partir de 1943 que vont être prises les premières décisions création d'une commission d'épuration puis ensuite d'un tribunal militaire en 1900 vous les voyez ici en haut à droite d'un tribunal militaire en octobre 1943 avec deux extensions de son domaine de compétence en décembre 1943 et en février 1944 je ne rentre pas dans les détails mais juste pour dire que à partir du moment où ce tribunal militaire est instauré les arrestations commencent à avoir lieu non pas en France métropolitaine qui est occupée mais en Afrique du Nord on arrête des militaires des généraux des amiraux dont par exemple l'amiral Esteva qui avait combattu en Tunisie contre les alliés la France libre d'anciens gouverneurs de partis de l'Empire et deux anciens ministres de Vichy dont Pierre Pucheux Pierre Pucheux que vous voyez ici sur la photographie qui avait été secrétaire général de l'intérieur sous Pétain et qui avait mis en place ces fameuses juridictions dont je parlais tout à l'heure les sections spéciales qui avaient eu cette particularité d'exercer une loi rétroactive et d'envoyer à la guillotine plusieurs militants communistes certains célèbres qui étaient restés en otage dans les prisons françaises donc le premier jugement concerne d'abord les gardiens d'un camp comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'un camp d'internement en Algérie puis vient le tour de Pierre Pucheux Pierre Pucheux n'est pas un militant c'est donc là un homme politique changé de camp mais ses plans n'ont pas réussi il est vite arrêté poursuivi et finalement son procès commence le 4 mars 1944 ses avocats vous avez j'ai essayé de le traduire j'espère qu'il n'y a pas trop de fautes ici essayent de lui suggérer comme système de défense de s'opposer justement à un tribunal qui ne serait pas compétent mais lui refuse cette ligne préfère s'opposer à la compétence générale non pas du tribunal militaire mais simplement ou plutôt plus largement de la France libre ce qui n'est pas finalement compétent c'est un tribunal dont tous les membres ont été nommés par un pouvoir qui ne fut jamais mandaté par personne ce pouvoir c'est celui du comité français de libération nationale et du général de Gaulle son système de défense ne lui permet pas de sauver sa tête il est condamné à mort et exécuté le lendemain c'est un retentissement énorme en France et à Vichy car de cette manière la France libre la résistance annonce précisément ce qu'il se passera les traîtres seront jugés jusqu'au plus haut sommet de l'état trois mois plus tard vient le débarquement en Normandie et la libération du territoire qui commence que faire au fur et à mesure de la libération des juridictions d'exception sont prévues la haute cour de justice les cours de justice et les chambres civiques dans chaque département seulement il faut du temps pour les mettre en place jusque là des ordonnances ont prévu le fonctionnement de cours martial de tribunaux militaires jusqu'à l'installation de ces cours de ces cours de justice pardon dans l'ensemble des départements un mot justement sur les cours de justice tout à l'heure Tony Rovati pardon disait qu'il y avait un caractère hybride des cours d'assises extraordinaires en Italie il en est de même dans ces cours de justice elles sont à la fois inspirées des cours d'assises ordinaires avec un panachage un mélange de magistrats et de jurés elles s'inspirent aussi des tribunaux militaires par le pouvoir du représentant du gouvernement du commissaire du gouvernement par l'impossibilité d'aller en nullité pour vice de forme et enfin par l'exécution par fusillade et non pas par la guillotine la guillotine étant le mode d'exécution des cours d'assises ordinaires la fusillade s'apparentant à un châtiment plus militaire donc c'est en attendant justement ces cours de justice que la juridiction militaire fait son travail en s'en prenant acquis ou comme de manière ordinaire avant guerre aux militaires auteurs de crimes ou de délits y compris des résistants mais aussi aux civils coupables de trahison d'espionnage et aux civils ou militaires qu'ils soient ennemis ou ressortissants français pour crimes de guerre en attendant c'est l'ordonnance du 29 août 1944 qui précise bien que tout ce qui est du ressort des crimes de guerre sera jugé par les seuls tribunaux militaires et on voit ici une répartition claire qui va durer tout au long de l'épuration entre le tribunal militaire et la cour de justice alors entre ces deux juridictions quand les cours de justice commencent à s'installer il y a des tensions qui sont parfois politiques parfois judiciaires et souvent une question d'échelon entre le local le régional ou le national la dimension de proximité de vouloir garder le contrôle des jugements même si on est que le public reste quelque chose de très très fort en tout cas dans la première année après la libération je vais prendre quelques exemples de cette transition entre tribunaux militaires et cour de justice voici le premier jugement d'une cour de justice en France c'est la première qui est installée dans les Bouches-du-Rhône à Marseille et qui condamne à mort un Arménien Deren Tchérpé-Tchékian qui était membre d'un parti collaborationniste et qui a pourchassé ceux qui ne voulaient pas partir travailler en Allemagne je reviendrai sur son cas dans un instant à propos de sa nationalité deux autres exemples en Isère par exemple dont la ville principale vous le savez probablement est Grenoble le tribunal militaire qui fonctionne en attendant la cour de justice décide de ne juger que les cas de collaboration armée on lui donne 73 dossiers elle n'en retient que 26 sur ces 26 23 condamnations dont 18 à la peine de mort le dernier jour de son fonctionnement le 2 novembre le lendemain cela doit être la cour de justice le tribunal militaire d'Annecy à proximité condamne à mort le colonel Georges Lelon qui avait organisé la répression d'un célèbre maquis celui des Glières il est condamné à mort mais son avocat demande la grâce il en avait le droit au général de Gaulle de Gaulle n'a pas le temps de répondre car des résistants des maquisards entrent dans la prison et exécute le colonel Georges Lelon autre exemple plus à l'ouest à Angers le tribunal militaire de la quatrième région prononce le dernier jour de son fonctionnement lui aussi une condamnation à mort contre le chef de la milice de la ville mais l'avocat plus efficace parvient à faire casser le jugement parce que le même jour avait commencé à siéger la cour de justice on a donc les deux juridictions qui fonctionnent le même jour c'est un motif de cassation qui permet à ce militien de sauver sa tête puisqu'il sera condamné par la nouvelle juridiction d'exception la cour de justice mais seulement à 20 ans de travaux forcés oui pardon encore un mot justement sur c'est le troisième point sur la question des étrangers elle pose un problème majeur car l'essentiel des ordonnances qui prévoient de punir les collaborateurs s'appuie sur l'article 75 du code pénal qui punit le crime de trahison mais peut-on reprocher à un étranger par exemple des italiens ou des allemands qui sont en France qui respectent et qui restent fidèles au gouvernement de leur pays d'être des traîtres il y a là un problème de droit je ne rentrerai pas davantage sur cette question puisque Daniel Sacodzirio tout à l'heure parlera de ces italiens en France mais c'est une question qui revient à de nombreuses reprises et je voudrais par exemple donner cet exemple du 26 juillet 1945 c'est un militaire allemand accusé d'espionnage pour l'Allemagne qui est déféré devant la cour de justice des basses pyrénées mais celle-ci refuse de le juger car je cite les actes de guerre accomplis en obéissant à son propre pays ne sauraient être considérés comme des faits de collaboration et la cour de cassation renvoie ce soldat devant un tribunal militaire pardonnez-moi mais 15 minutes et encore 5 minutes d'accord très bien merci pourquoi est-ce que l'armée monsieur Tchérpe Tchekian dont nous parlions a été tout de même condamné il est arménien l'arménien n'a pas d'existence légale comme état à cette époque-là vous le savez ça n'empêche donc pas de le juger que se passe-t-il enfin après 1949 en 1949 ont lieu jusqu'en 51 pour les jugements les dernières affaires devant les cours de justice ce sont ensuite les tribunaux militaires à nouveau qui vont prendre le relais voici un exemple étonnant Abel Abel Danos il est jugé en 49 par une cour de justice il obtient l'annulation de sa sentence comme vous le voyez il va donc devant le tribunal militaire de Paris mais là il est à nouveau condamné à mort il faut dire que c'est un principal membre de ce qu'on appelait la Gestapo française et il est fusillé en mars 52 il y a donc ici une complémentarité un accord entre le jugement de la cour de justice et celui pardon de la excusez-moi voilà pardon autre affaire célèbre 1953 le procès des membres de la division d'Asreich auteur du massacre d'Oradour le plus grand massacre qui a lieu en France avec 642 victimes ils sont membres d'une armée ennemie mais comme vous le savez peut-être 14 d'entre eux sont français en fait alsaciens qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là on le voit c'est le pouvoir politique qui va prendre le dessus puisque le tribunal militaire les condamne mais le parlement vote dans les jours qui suivent une loi d'amnistie pour ces hommes alors qu'ils ont commis des crimes de sang cela soulage beaucoup leur région d'origine l'Alsace cela plonge le Limousin la région d'Oradour dans la consternation donc ce type de jugement ont tendance à disparaître et c'est pour en arriver vers la fin de la période avec une particularité en 1963 est créée une nouvelle juridiction d'exception qui n'a rien à voir avec la seconde guerre mondiale mais avec la guerre d'Algérie et qui s'appelle la cour de sûreté de l'État et bien cette cour de sûreté de l'État va être utilisée à trois reprises seulement mais il n'y a plus beaucoup d'affaires pour juger et condamner des anciens collaborateurs qui n'ont été arrêtés que très dardivement dans les années 60 enfin encore une autre juridiction en 1964 dans la loi du 26 décembre les crimes contre l'humanité deviennent en droit français le seul crime non prescriptible et c'est donc devant des cours d'assises ordinaires que vont être jugés un l'ancien chef de la Gestapo Charles Barbie deux anciens collaborateurs Paul Touvier et Maurice Papon en 1987 94 et 98 vous le voyez au cours de ce long processus sur lequel je suis passé très rapidement des juridictions très différentes on pourrait y voir à la fois une inventivité juridique une détermination politique parfois une opportunité comme dans le cas de la cour de sûreté de l'état mais si l'on veut mesurer l'importance de chacune de ces juridictions il est important de rappeler que c'est d'abord les juridictions d'exception pour punir la collaboration c'est-à-dire la haute cour de justice la cour de justice et les chambres civiques qui ont fait l'essentiel du travail 130 000 personnes déférées 33 000 acquittées 50 000 condamnées à l'indignité nationale c'est-à-dire pas de peine de prison 40 000 à la prison et 750 à mort et exécutées c'est bien donc la principale juridiction pensée pour cela qui fait l'essentiel du travail mais au marge nous avons tous ces autres phénomènes qu'il me semble important également d'étudier pour voir où se trouvent les limites c'est souvent dans les limites qu'on peut voir le plus finement peut-être les rapports de force et les enjeux de chaque période je vous remercie merci à vous Virgili io siamo particolarmente grati di questa sua relazione perché ci pone di fronte ad un problema generale che è quello non tanto della comparazione tra i diversi paesi e i modi diversi modi in cui i paesi hanno affrontato questo problema ma ci mette di fronte ad un problema che io ritengo fondamentale anche nella come dire nella nell'educazione ci pone di fronte al problema della complessità cioè noi non possiamo ormai più uscire da una situazione e da semplificazioni ideologiche dobbiamo affrontare serenamente direi ormai a distanza di 70 anni il problema della complessità di questi fenomeni e questo l'esposizione di Virgili ne è stato un esempio direi eccellente credo che io credo che proprio per questa complessità e anche per il fatto di dover affrontare ormai privi di retroterre ideologici i fenomeni del passato sarebbe estremamente interessante un confronto e credo che lo si possa fare ma è già stato detto con ciò che capita ed è capitato nei paesi nei paesi dell'est e questo potrebbe essere uno degli elementi di studio importanti in futuro e di collaborazione importante in futuro grazie Virgili siamo rimasti direi nei tempi previsti esattamente adesso siamo al momento della pausa e quindi ci rivedremo tra quindi adesso sono direi di fare una pausa di cinque minuti dieci giusto un mot on me demande sur le chat si je peux passer le le slides bien sûr j'ai envoyé le fichier n'y a pas de problème pour qu'il circule entre nous voilà merci d'accord merci merci a vous facciamo una pausa di dieci minuti diciamo va bene ci rivediamo tra dieci minuti perfetto perfetto va bene grazie 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 chiedi le faccio le albini grazie 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 direi che possiamo riprendere il nostro seminario se tutti sono possiamo riprendere luciano dimmi faccio soltanto una diamo un piccolo avviso per quanto riguarda le slide che sono chieste state richieste da alcuni ecco allora io direi così allora per i partecipanti al progetto le presentazioni saranno poi inserite nella nostra cloud nelle pagine condivise credo già domani domani sera ecco per tutti quanti però noi pubblicheremo sul canale youtube dell'istituto se non sbaglio le registrazioni di questi incontri e per quanto riguarda le slide previ autorizzazione degli autori penso che potremo poi trovare vediamo poi tecnicamente come uno spazio sul sul sito per renderle fruibili da tutti che dici magari tra una settimana ecco dateci qualche giorno per le autorizzazioni ecco provate a cercare poi sul sito alla pagina del progetto e sul canale youtube insomma i materiali perché ovviamente li mettiamo a disposizione grazie no no direi che la soluzione migliore tanto saranno poi a disposizione sul sito direi che possiamo riprendere il nostro seminario io do la parola a paolo caroli che un po post dottorato di ricerca presso università un volta di berlino e che ci sottoporrà un argomento che a me personalmente affascina perché il titolo della sua relazione e transizione amnesica distorsioni e rimozioni fra punizione e clemenza quell'aggettivo amnesica è un aggettivo che mi affascina particolarmente ma per motivi che poi dirò ma gli do direttamente la parola prego grazie grazie mille buonasera e ringrazio istoreto ringrazio maria per per l'invito per la possibilità di rivedere volti noti anche se a distanza e volti nuovi in particolare professore prima donna che per me come per molti di voi immagino a cui studi hanno rappresentato un elemento centrale della della ricerca e io dunque come come diceva all'inizio toni io ho pubblicato quest'anno con una prospettiva di penalistica diciamo che che appunto è la mia disciplina ho pubblicato questo libro dal titolo potere di non punire che si focalizza sull'amnistia togliatti principalmente e ora sto lavorando non dico nulla per scaramanzia ma ha una versione in inglese che invece ha un focus più di transitional justice che che propriamente di diritto penale oggi però alla luce del della chiave comparata ho pensato contrariamente a quanto avevo inizialmente ideato diciamo ho pensato che sia forse più interessante fare un passo indietro e rispetto all'amnistia sulle cui distorsioni amnesie molto abbiamo discusso anche in passato e riprende un tema che è stato molto chiaramente delineato nella relazione introduttiva da da toni rovatti che è quello del rapporto tra il tra il conflitto e la sussunzione del conflitto all'interno di fatti specie penali nella fatti specie i famosi tre delitti fascisti di cui al al decreto luogo tenenziale legislativo luogo tenenziale 159 del 44 questo tema è un tema che ha alle spalle due argomenti molto dibattuti non solo a livello giuridico ma a livello filosofico a livello storico che ritroviamo ritroviamo qui il primo è il tema del rapporto tra l'utilizzo dello strumento penale e la verità storica da caramandrei in poi si è scritto ovviamente tantissimo e se ne è ridiscusso molto in questi ultimi vent'anni in particolare con riferimento all'esperienza argentina e all'esperienza interamericana in generale dove abbiamo posizioni a dire molto anche molto estreme come quella della porta interamericana che arriva a dire che in riferimento a gravi violazioni dei diritti umani l'unico luogo deputato alla ricostruzione di una verità storica dice spessamente così è il processo penale una posizione che è stata anche molto molto criticata il secondo tema che viene diciamo in gioco anche questo molto discusso è il tema delle possibili distorsioni che la giustizia penale conosce quando si occupa con crimini massivi e di grande rilevanza storica come quelli di cui stiamo stiamo parlando noi è il cosiddetto tema della duplicazione dei messaggi da Anna Arendt a Marti Koschiniemi Mark Marcosieller si è scritto moltissimo su questo cioè il rischio che in queste circostanze la giustizia penale non venga utilizzata per lo scopo per il quale essere costituita cioè accertare la responsabilità di un individuo in base a norme sostanziali e procedurali prestabilite prima e fra tutti la regola le regole sull'onere della prova la regola in dubbio pro reo la presunzione di innocenza ma venga utilizzata per sancire pubblicamente una determinata interpretazione dei fatti storici chiarire chi sono i vinti e chi vincitori le vittime e i carnefici ora questa è una possibile degenerazione ma è innegabile che anche quando invece la giustizia penale venga esercitata nel rispetto dei principi fondamentali ci sia sia invece fisiologico un contributo della giustizia penale proprio per il suo ius dicere pubblico alla ricostruzione della della memoria della memoria storica e questo si è discusso molto di questo con riferimento all'uso appunto del processo penale ma molto interessante è appunto anche guardare la fase precedente cioè la scelta della qualificazione dei fatti in norme in mezzo di norme di norme giuridiche cioè come trasformiamo la realtà storica nella sua complessità in fatti specie penali è una operazione di razionalizzazione e necessariamente anche di riduzione come ogni volta in cui la realtà viene sottomessa dal linguaggio a maggior ragione quando questo linguaggio è quello del diritto penale un tema però anche questo molto rilevante pensate solo per tornare a sudamerica al grande ai molti tentativi recenti da parte sia della giurisprudenza che delle di alcuni legislatori di qualificare i crimini commessi dai regimi sudamericani che già erano stati qualificati come crimini contro l'umanità e che quindi già di per sé portavano alla persecuzione alla punizione dei colpevoli ma di qualificarli come genocidio questo perché l'etichetta penale che si sceglie di attribuire ai fatti storici ha enormi conseguenze sul piano simbolico e sul piano della ricostruzione della memoria storica ora venendo al nostro caso italiano è un elemento innegabile l'elemento temporale in cui i delitti fascisti vengono introdotti è un'ipotesi che nella giustizia di transizione si amerebbe appunto transizione a conflitto in corso e questo ha un enorme effetto simbolico sulla qualificazione appunto del conflitto a mezzo di norme giuridiche perché perché come come diceva molto chiaramente toni all'inizio nel 44 questo piccolo stato che era il regno del sud che di fatto se non consideriamo i territori controllati dagli alleati di fatto controllava una parte della puglia era aveva uno scopo comunicativo appunto come dicevo prima parlando di duplicazione di messaggi un molto molto urgente di comunicare sia agli alleati che soprattutto alla popolazione italiana che lo stato italiano vero lo stato italiano legittimo non era quello che in quel momento controllava tutto il centro e il nord pur per tramite dell'occupazione nazista ma era appunto quel piccolo stato del sud e quindi il messaggio da lanciare era il fascismo è stato un regime criminale ma soprattutto oggi il vero stato italiano a cui cittadini devono essere fedele è lo stato del sud perché viceversa lo stato del nord è uno stato criminale in quanto collabora con il nemico invasore e dove come vediamo la traduzione di questo sintesi che ho tradotto diciamo in parole in parole povere e poste inappropriate ma come la vediamo nella qualificazione dei tre reati beh la troviamo già in riferimento all'articolo 2 l'articolo 3 perché questi due reati hanno una caratteristica veramente unica dell'esperienza italiana cioè quella di ritenere che il fascismo giunto al potere con un golpe poi sappiamo secondo colpe successivo fosse già criminale quindi che le azioni del fascismo fossero già criminali sulla base del diritto penale vigente quindi con applicazione delle norme del codice zanardelli e poi del codice rocco questo è un veramente un unicum che fa sì che in italia non si ponga problema centrale di altri paesi di della retroattività delle fatti specie penali ora se questo da un lato evidenzia un lodevole desiderio che troviamo in tutta l'esperienza della transizione italiana di mostrare il rispetto dei principi fondamentali della giustizia penale anche per differenziarsi dall'uso partigiano della giustizia che era stato fatto dal fascismo dall'altra può anche in fin dei conti fare un po' sorridere nel con riferimento alla distorsione che della memoria storica che essa prova perché immaginare liquidare diciamo se vogliamo il fascismo come un'operazione complottarda di un gruppo di criminali che ha usurpato le istituzioni dello stato liberale pur poggiando su un elemento di verità sorvola sul fatto che poi questo gruppo di criminali ha governato un paese per vent'anni e quindi per poterlo fare necessariamente dovrà aver avuto il consenso di una buona parte della popolazione il consenso di istituzioni come la monarchia la chiesa organizzazioni economiche e via discorrendo ma diciamo la distorsione più significativa prodotta da questa urgenza di duplicazione dei messaggi che si ha nel 44 è quella del collaborazionismo io nel mio lavoro contesto proprio partendo dall'esperienza francese contesto l'utilizzo dell'etichetta collaborazionismo per descrivere l'esperienza italiana parlo di etichetta perché come sappiamo poi la fattispecie di collaborazionismo rinvia a distinti reati previsti nel codice penale militare di guerra ma chiamarlo collaborazionismo risponde a una deliberata scelta che è quella di negare l'esistenza della guerra civile proprio al fine di legittimare lo stato lo stato del sud come l'unico regno come l'unico stato italiano legittimo e di liquidare la rsi come stato criminale ora è chiaro come questo Marsi come l'esperienza l'etichetta Marsi adatti a un regime che deriva da vent'anni di dittatura fascista e per capirlo davvero occorre guardare alla Francia e soprattutto all'analisi della figura del collaborazionista che viene fatta da Jean-Paul Sartre Jean-Paul Sartre fa un'analisi che mischia diciamo filosofia, sociologia, anche psicologia per dirci chi è il collaborazionismo, il collaborazionista francese una figura che lui chiama un anarchico di estrema destra una figura che è mal amalgamata ci dice della società che ha nei confronti dei suoi concittadini tutta una serie di problematiche di tipo di invidia di incapacità di integrazione che lo portano pur di realizzare le proprie vendette personali ad accettare di sottomettersi a una dittatura autoritaria straniera in una logica che mischia appunto vendette private opportunismo ed è un quadro molto interessante a mio giudizio che io leggo più che in parallelo con l'esperienza del collaborazionismo italiano molto diversa con l'adesione dei piccolo borghesi al primo fascismo leggendo in particolare De Profundis di Sarta e opere come anche letterarie come conformista di Moravia e poi ovviamente di Bertolucci ma in particolare credo che ci siano delle profonde analogie tra Sarta e Sartre a dispetto delle differenti posizioni ovviamente sul piano politico dei due soggetti quindi proprio la Francia ci aiuta a mostrare questo effetto distorsivo prodotto dall'uso di questa etichetta per classificare l'esperienza italiana e questo ha delle conseguenze fondamentali secondo me di inconsapevoli appunto amnesie come si diceva prima che si ripercuoteranno poi fino all'oggi e la prima appunto conseguenza è impedire di vedere immediatamente che questi crimini compiuti nell'ambito della RSI al di là dell'aspetto dell'infedeltà nei confronti dello Stato italiano sono crimini terribili commessi nei confronti degli individui se si fosse utilizzata oggi ad esempio la speciale crimine di guerra piuttosto che genocidio faccio degli esempi ovviamente non si tratta di genocidio in questo caso ma sono dei crimini che mettono un focus direttamente sulla persona offesa come essere umano o su un gruppo viceversa qui il focus è di tipo pubblicistico sul tradimento dello Stato ma abbiamo delle torture abbiamo degli omicidi abbiamo condotte lesive nei confronti di esseri umani di grande gravità e poi ovviamente l'elemento principale è che si nega l'autonomia criminale della RSI il fatto che la RSI abbia commesso tutta una serie di crimini che rispondono a una logica di guerra civile e che sono indipendenti dall'aiuto al nemico come ci ricorda benissimo da anni Tony Rovatti nella sua analisi e questo appunto provoca una distorsione l'idea che in fondo il disvalore principale di queste condotte sia stata una sorta di opportunistica collaborazione con il nemico come troviamo invece in altre esperienze europee su questo quadro poi incombe ovviamente la mannaia dell'amnistia Togliatti con tutte le distorsioni ancora più rievanti sulla memoria storica a tutti voi note a tutti voi note date dal combinato disposto delle imperfezioni colpose o dolose che siano del testo giuridico del testo legislativo dell'amnistia e dall'attivismo della corte di Cassazione in particolare e di alcune corti alcuni giudici di rendia Siamo a 15 minuti Sì, perfetto adesso mi avvio a concludere per cui passerei veramente alla conclusione di questo ragionamento c'è un processo di sommarsi di distorsioni della memoria storica e di conseguenti amnesie prodotte dall'esercizio sia dello strumento penale che dalla scelta di rinuncia alla persecuzione penale Nel mio libro faccio una valutazione complessiva che non riprenderò qui adesso ma che mi porta a formulare un giudizio tutto sommato benevolo nei confronti di quel momento storico benevolo nel senso che alla luce del contesto complessivo ritengo che forse di più di quello che si è fatto di più di quanto hanno fatto in particolare le corti strabinarie ed assise fosse difficile da realizzare ciò che invece critico è la mancanza di ricerca soprattutto negli anni successivi e a maggior ragione dopo la fine dello scontro ideologico della guerra fredda la mancanza di ricerca di strumenti di attribuzione della responsabilità distinti dal processo penale cioè ciò che per motivi politici a volte diametralmente opposti nei diversi attori dell'età repubblicana è sempre mancata una volontà a mio giudizio vera e propria di confrontarsi con i crimini del fascismo in quanto parodotto della società italiana o perché una parte politica negava l'esistenza stessa dei crimini o perché quei crimini non venivano visti come prodotto della propria società ma bensì piuttosto come azioni di un nemico che si è sconfitto con il sangue è mancata la volontà di confrontarsi con i crimini del fascismo ecco per concludere quindi io credo che se l'uso della giustizia penale ha prodotto distorsioni e amnesie è evidente che oggi non è più possibile se non altro per ragioni di tempo esperire utilizzare nuovamente lo strumento penale anche volendo come si è fatto appunto ad esempio in paesi sudamericani a distanza di anni ma tuttavia ritengo che la possibilità di confronto con quei crimini e di utilizzo di forme alternative di attribuzione della responsabilità a questo punto non di tipo individuale è un percorso che si è appena iniziato che ha conosciuto dei timidi dei timidi inizi in particolare penso tramite l'attività della presidenza della repubblica ma credo che sia un percorso tutto ancora tutto da intraprendere e vi ringrazio molto spero di essere stato chiaro e se ci saranno poi domande volentieri risponderò grazie mille grazie per questa relazione veramente stimolante che non entro nel merito perché come ripeto non non sono un giurista né non sono occupato di storia dell'epurazione ma un concetto che mi pare fondamentale che è stato espresso e questo rapporto tra verità giudiziaria e verità storica che è uno dei temi che stiamo bozzando anche come istituto cercando appunto di per adesso è solo un titolo ma che credo abbia anche un'attualità profonda nella realtà che viviamo tutti i giorni aggravata dal fatto che oggi spesso i processi sono anticipati sui media anzi addirittura la sentenza viene anticipata sui media quindi è un tema di un'attualità direi bruciante da questo punto di vista e grazie davvero per questo suo intervento lascio la parola adesso a Barbara De Luna che dottoranda del Dipartimento di Storia Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna si occupa in particolare di storia di genere ricordo che non è la prima collaborazione con il nostro istituto perché ha già collaborato alla ricerca sui gruppi qualche anno fa sui gruppi di difesa della donna una ricerca dell'API nazionale coordinata per l'istituto da Barbara Berrutti la parola a Barbara De Luna che ci parlerà dei processi alle collaborazioniste tra indulgenza e pregiudizi Francia e Italia a confronto grazie buongiorno allora sì questa mia riflessione nasce appunto dalla ricerca che ho svolto in questi termini di dottorato che ci sta per concludere che consiste appunto in uno studio comparativo dei processi per collaborazionismo condotti contro le donne dalle corti straordinarie in Italia e dalle cour de justice in Francia in questo senso il taglio comparativo si è rivelato fondamentale perché innanzitutto ha permesso di elaborare categorie trasversali che consentono di comprendere il conflitto mondiale e la successiva giustizia di transizione al di là dei singoli casi nazionali la storia dell'epurazione è infatti una storia soprattutto europea e quindi non si tratta solo di confrontare due realtà simili e contemporanee ma anche di mettere in luce la loro appartenenza ad uno stesso spazio storico sociale segnato dalla guerra e dal fenomeno del collaborazionismo in secondo luogo il confronto delle modalità di coinvolgimento delle donne nello schieramento nemico ha permesso di approfondire come durante la guerra e alla liberazione si strutturarono i rapporti e le identità di genere nei due paesi questo confronto tra le relazioni tra i sessi in Italia e in Francia permette quindi da una parte di rilevare le specificità dei due paesi nella strutturazione della differenza sessuale e della sua rappresentazione simbolica e dall'altra di sottolineare come i due universi femminili collaborazionisti presi in esame pur sviluppandosi in diversi paesi quindi in diversi contesti politici sociali e culturali mantengano in realtà delle similarità che sono strettamente legate alla questione della femminilità in rapporto alla violenza alla guerra e alla giustizia di transizione quindi innanzitutto l'analisi comparativa dei fascicoli processuali permette di individuare delle analogie tra i due paesi circa proprio le modalità con cui le donne furono processate e punite dal dopoguerra dalle casse dalle cour di giustizia infatti sia in Italia che in Francia le collaborazioniste furono giudicate secondo stereotipi misogini profondamente radicati nella mentalità collettiva del tempo e l'immagine della collaborazionista in entrambi i paesi fu liquidata come un fenomeno eccezionale dovuto esclusivamente all'imbarbarimento della società in guerra e ridotta agli scarni cliché della spia suddola e dell'amante del nemico perversa e morale generale emerge quindi come in entrambi i paesi il processo di ricostruzione nazionale coincise in realtà col tentativo delle due nazioni uscite dalla guerra di ristabilire i rapporti di genere tradizionali che erano stati messi in crisi dalla guerra totale e di riaffermare il dominio maschile sul corpo femminile attraverso una forma specifica di giustizia di genere separata da quella degli uomini e caratterizzata da proprie dinamiche e proprie retoriche allo stesso tempo l'analisi di questi processi permette di decostruire questi stereotipi e di mettere in luce la grande varietà di modalità di coinvolgimento delle collaborazioni sia italiane e francesi il loro rapporto con la guerra e con la violenza le forme della loro militanza politica e le diverse tipologie di rapporti e fraternizzazioni che queste donne ebbero con gli occupanti anche da questo punto di vista sono emerse molte analogie tra i due paesi è emerso ad esempio che lo stereotipo della donna spia rappresentata in entrambi i paesi come una fan fatale senza scrupoli pericolosa seduttrice non trova in realtà riscontro nell'esperienza della maggior parte delle donne processate nel dopoguerra se è vero infatti che sia in Italia che in Francia l'iputazione più ricorrente era quella dell'azione e spionaggio a favore del nemico la maggior parte delle imputate in realtà fu processata per singole delazioni occasionali talvolta sporte in forma anonima e che spesso erano legate a motivazioni opportunistico personali come la vendetta piuttosto che ad una reale adesione agli ideali di regime quindi le vicende di queste donne sono quelle che Luciano Allegra ha definito vicende di ordinario collaborazionismo e che piuttosto hanno fatto emergere il contesto di violenza della guerra civile e della guerra totale nella sua dimensione locale contesto che le imputate talvolta se però sfruttare a proprio vantaggio la ricerca mette poi in luce in entrambi i paesi una grande varietà di rapporti e di modalità di convivenza delle donne con i tedeschi o in Italia con i fascisti repubblicani che complicano la sioma collaborazionista amante del nemico rimasta fortemente impressa nella memoria pubblica di entrambi i paesi oltre ad indagare le relazioni sessuali e sentimentali quindi nella mia ricerca sono state prese in considerazione anche tutte quelle relazioni commerciali professionali ed amicizia che le donne costrette dalla guerra a rendersi visibili nello spazio pubblico strinsero con il nemico che era massicciamente presente sul territorio da questa analisi è emerso da una parte come le donne che entravano in contatto con il nemico lo facevano con modalità obiettivi e motivazioni molto diverse tra loro c'era ad esempio chi sceglieva di lavorare per i tedeschi o per i fascisti per ottenere vantaggi economici e materiali chi intratteneva rapporti di amicizia magari per essere agevolata nel mercato nero o per una reale adesione agli ideali antifascisti e poi chi stringe relazioni sentimentali per approfittare dei vantaggi materiali che derivavano dalla posizione di potere che si assumeva entrando in contatto con i nazifascisti ma anche perché realmente innamorate di un milite fascista o tedesco dall'altra parte la ricerca ha messo in luce lo scandalo che queste relazioni provocavano nel resto della popolazione che avvertì i rapporti tra le donne e il nemico non solo come un tradimento della comunità nazionale ma come una vera e propria trasgressione dei codici morali condivisi disponendo infatti liberalmente dei propri corpi le donne sfidavano il principio secondo cui il corpo femminile appartiene alla nazione ed entrando in relazione con il nemico tradivano quindi anche i propri compatrioti oltraggiandone la virilità proprio per questo motivo nel dopoguerra in entrambi i paesi le relazioni sessuali delle donne con il nemico assunsero in entrambi i paesi un rilievo del tutto sproporzionato alle reali conseguenze che queste relazioni ebbero sulle sorti della guerra e tale rilievo finì per oscurare non solo l'esistenza di altre forme di collaborazione femminile ma anche le sfumature e la varietà dei rapporti tra donne e occupanti che appunto non sono riducibili al semplice assioma collaborazionista amante del nemico l'analisi mostra infine come in entrambi i paesi nonostante i tribunali del dopoguerra costantemente negassero il movente politico del collaborazionismo femminile le donne erano in realtà coinvolte nei partiti e nelle organizzazioni collaborazioniste di entrambi i paesi in Italia ad esempio il 13% delle imputate del mio campione era ruolato nel servizio ausiliario femminile che era un vero e proprio battaglione femminile creato dalla RSI nel 1944 con compiti principalmente di propaganda e assistenza al supporto e supporto ai reparti armati maschili anche in Francia pur senza essere inquadrate militarmente il 15% delle imputate fu perseguito per aver aderito ad un partito o a un'organizzazione collaborazionista come il Partito Popolare Francais o la Milice Francaise anche in questo caso soprattutto con compiti di propaganda e assistenza sociale oltre alle numerose analogie tra i due universi collaborazionisti la ricerca ha poi evidenziato diverse specificità relative alla Francia e all'Italia sia per quanto riguarda le attività delle donne durante la guerra sia per le modalità con cui vennero giudicate nel dopoguerra una delle specificità più evidenti è quella della presenza in Italia del fenomeno della donna armata con cui dovettero fare i conti i giudici del dopoguerra se infatti in Italia il 30% delle imputate fu chiamato nel dopoguerra a rispondere di crimini violenti come arresti rastrellamenti esecuzioni e omicidi in Francia quasi nessuna partecipò alle azioni di guerra della Milice o dei tedeschi questo perché in Italia l'archetipo della donna sposa madre esemplare proposta dal fascismo nel ventennio sotto la Repubblica di Sarò si era trasformato in quello della donna soldato e della donna patriota cioè di una donna dalla spiccata coscienza civica però pronta a sacrificare se stessa e a difendere la patria senza perdere i tratti caratteristici della propria femminilità nel 1944 fu quindi creato come dicevamo un battaglione femminile cioè servizio ausiliero femminile in cui le arruolate erano addestrate alle armi ma senza l'autorizzazione ad usarle se non in caso di estrema e legittima difesa i loro compiti erano quindi limitati al supporto dei riparti armati maschili e i rami previsti per la loro attività erano quelli dell'assistenza infermieristica della propaganda del lavoro d'ufficio di fatica da svolgere nei posti di ristoro e nelle caserme pur essendo quindi un'organizzazione militare a tutti gli effetti le ausiliarie erano tenute lontane dai principali teatri di scontro armato ed erano sottoposte ad una rigida disciplina morale per essere arruolate infatti bisognava dimostrare non solo di essere animate da autentico fervore patriottico ma anche di corrispondere al modello della donna casta modesta irreprensibile che incarnasse i valori femminili della retorica fascista repubblicana questo perché la RSI si preoccupava di dissociare l'immagine della donna fascista da qualsiasi tipo di violenza da una parte per proteggere il stesso servizio ausiliario femminile dalle critiche che provenivano dall'ala conservatrice del partito dall'altra per preservare la stessa repubblica da accuse di sconfinamento nell'ordine nel disordine e nell'illegalità tuttavia la violenza era connaturata al fascismo e quindi anche le ausiliarie subirono il fascino del modello virile guerresco incoraggiato dalla RSI e fecero proprio i miti del sacrificio e della bella morte in nome della patria quindi pur rifiutando gli ideali emancipazionisti delle nemiche anglosassoni che ancoravano la richiesta di partecipazione alla guerra alla rivendicazione di nuovi diritti civili e politici le donne di Salò manifestarono comunque il desiderio di combattere accanto ai camerati uomini e cercarono di aggirare il rigido codice morale imposto alle ausiliarie rivolgendosi a reparti armati come le Brigate Nere o la Decima Mass che spesso in autonomia dal comando della SAF arruolavano con criteri di selezione meno rigidi e talvolta permettevano alle donne di portare alle armi e partecipare attivamente al conflitto l'archetipo della donna patriota delineato dalla Repubblica di Salò non ha un corrispettivo francese la femme nouvelle del regime di Vichy presenta più punti in contatto con la madre e sposa esemplare del fascismo degli anni venti piuttosto che con l'immagine della donna attiva e militarizzata di Salò infatti pur sollecitando il consenso femminile attraverso la propaganda del regime di Vichy non si spinse mai né a proporre un inquadramento femminile né a teorizzare la possibilità di un coinvolgimento delle donne nella lotta antipartigiana continuò quindi a riservare alla fan nouvelle esclusivamente il ruolo di gardien dell'arriere limitando i doveri femminili verso la patria alla procreazione e alla difesa del popolare domestico la collaborazione militare con i tedeschi rimase quindi in Francia un affare prettamente maschile e le francesi furono coinvolte in misura molto minore nelle operazioni belliche rispetto a quanto avvenne in Italia se quindi nel dopoguerra l'immagine della collaborazione estafrancese presso i tribunali francesi era soprattutto legata allo stereotipo dell'amante del nemico quindi leggera di facili consumi e della sessualità perversa in Italia i giudici dovettero affrontare anche la presenza in tribunale di donne che durante la guerra avevano imbracciato le armi e combattuto attivamente tra le fila nemiche questo nelle ritoriche giudiziarie dell'accusa le donne che avevano partecipato a queste azioni violente perdevano la loro natura femminile per definizione stranea alla violenza alla guerra e venivano assimilate all'uomo quindi nelle sentenze i giudici non solo riprendevano il cliché della donna immorale perversa dei tribunali francesi ma si soffermavano anche sul concetto di femminilità tradita stromettendo le imputate dal genere femminile e descrivendole ad esempio come virago amazzoni o belve feroci un'altra differenza tra i due paesi è poi riscontrabile nella tipologia di nemico con cui le donne collaborarono o ebbero rapporti se infatti durante i processi francesi il nemico è quasi sempre il tedesco in Italia il nemico evocato è invece a volte soprattutto il fascista repubblicano per fare un esempio le spie francesi processate nel dopoguerra erano quasi tutte a servizio della Gestapo dell'Aver mentre in Italia pur essendo numerose anche le donne a servizio dei tedeschi la maggior parte delle spie lavorava per gli uffici politici investigativi della GNR e allo stesso modo mentre in Francia le delatrici occasionali si rivolgevano più frequentemente alle autorità tedesche per denunciare un compatriota in Italia le denunce erano più spesso sporte alle istituzioni di Salò questo perché se il regime di Vichy che era sorto in seguito alla sconfitta contro la Germania trovava la sua legittimità soprattutto nella politica di collaborazione presentata quindi come unica salvezza dopo la disfatta in Italia la Repubblica di Salò si poneva almeno in parte in continuità col fascismo del ventennio e tentava quindi di riacquisirne la legittimità e la popolazione era quindi più incline rispetto a quella francese a rivolgersi alle autorità del nuovo regime di cui riconosceva per quanto possibile una maggiore autonomia dall'esercito occupante ma è soprattutto in rapporto alle cosiddette amanti del nemico che questa differenza è maggiormente accentuata infatti se in Francia pochissime donne furono accusate nel dopoguerra di aver avuto relazioni sessuali o sentimentali con un collaborazionista francese o un membro della milice in Italia il 15% mentre l'imputata aveva invece avuto rapporti con un fascista repubblicano questo infatti in Italia la dura guerra civile che si scatenò nel nord aveva portato le due parti in lotta a fortemente denazionalizzare il proprio avversario da parte della resistenza quindi i repubblicani erano estromessi dall'appartenenza al popolo italiano e venivano assimilati all'esercito invasore erano addirittura considerati peggiori degli occupanti perché principali responsabili a causa del loro tradimento della guerra civile l'odio alla resistenza in Italia sembrava quindi rivolgersi più verso il fascista resosi servo dei tedeschi che verso lo straniero invasore in Francia al contrario sono 15 minuti chiedo scusa perfetto grazie nonostante anche il discorso viscista fosse basato sulla violenza e sull'esclusione il regime si rivelò meno incline alla mobilizzazione dei civili di quanto non fosse la Repubblica di Salò e anche se Darnan e la Milis nel 1944 propendevano per lo scontro civile Petain si limitò a invitare i francesi all'astensione del combattimento De Gaulle anche da parte sua cercò di evitare lo scontro lo scatenarsi di una guerra fratricida e anche per la stessa resistenza metropolitana il nemico principale rimase sempre il Reich germanico e le azioni di violenza erano quindi dirette soprattutto contro l'occupante piuttosto che contro i propri connazionali i casi ci furono ma furono più rari i rapporti delle donne con i collaborazionisti furono quindi percepiti in Francia come un tradimento meno grave di quanto non avvenne in Italia quindi per concludere la fonte giudiziaria ci permette di analizzare e confrontare sia il collaborazionismo vissuto delle donne italiane e francesi che quello immaginato cioè la percezione che ne ebbero i protagonisti i testimoni del tempo e come venne giudicato nel dopoguerra quali comportamenti furono sanzionati e per quale motivo questo doppio livello di analisi unito all'approccio comparativo contribuisce a mettere in discussione la tesi secondo cui la guerra avrebbe costituito per le donne europee un'occasione di emancipazione infatti se è vero che durante il conflitto le donne godettero di una maggiore libertà di movimento e si videro assegnare nuovi compiti e nuove responsabilità la modificazione di questi ruoli di genere fu in realtà provvisoria e superficiale e soprattutto strettamente connessa all'emergenza bellica quindi la fine della guerra coincise sì con la conquista del diritto di voto da parte delle donne di entrambi i paesi ma questa conquista non si accompagnò ad un cambiamento di mentalità e gli stereotipi misogini paternalistici utilizzati dai paesi per giudicare le collaborazioniste e gli rivelano appunto come la guerra costituì per francesi e italiane un'occasione di emancipazione limitata e temporanea e che la ricostruzione nazionale come dicevamo prima costituì in realtà un tentativo dei nuovi stati democratici di ricostruire un ordine di genere ripristinare i ruoli sessuali tradizionali e escludere l'immagine della collaborazionista dai valori della nuova nazione democratica grazie grazie a Barbara De Luna per questa sua relazione direi limpida e che particolarmente interessante nelle nelle sue conclusioni il tema guerra donne donne in armi donne negli eserciti è un tema di estrema anche attualità perché ovviamente in una situazione completamente diversa la presenza femminile negli eserciti contemporanei che sono eserciti professionali essenzialmente è una presenza nel nostro caso direi non così numerosa rispetto ad altri paesi ma comunque presente e con tutti i problemi che questo si porta dietro e non voglio dilungarmi di più ma è presente all'interno degli stessi organismi militari recentemente una conferenza presso la scuola di applicazione di Torino del tenente colonnello Rosa Vinci Guerra metteva proprio a fuoco questi temi e quindi la ringrazio particolarmente anche per questi aspetti che ci riportano al mondo di oggi e quindi che dimostrano anche la vitalità della ricerca però perché senza il mondo di ieri non conosciamo il mondo di oggi grazie lascio la parola adesso per l'ultima leazione a Daniele Sacco-Zirio che è dottorando presso l'Università di Padova e che ci parlerà su un caso particolare di studio emigrati italiani di fronte alla giustizia purativa francese il caso della Cour de Justice della Senda prego grazie buonasera a tutti io ho delle slide che dovrei condividere vediamo se se mi confermate che si vedono sì grazie anch'io ringrazio a mia volta gli organizzatori e i storeto per aver realizzato questo ciclo di seminari e per permettermi di intervenire a mia volta e di parlare dei temi della mia ricerca dottorale in questo intervento vorrei focalizzarmi sul coinvolgimento degli italiani nell'epurazione francese soffermandomi in un primo momento sugli aspetti principali in un primo momento sulla posizione peculiare che gli italiani hanno di fronte alla Corte di Giustizia da un punto di vista giuridico e alle contraddizioni che questo che il loro statuto comporta e in seguito tentando una ricostruzione dell'atteggiamento a partire di un caso specifico di Corte di Giustizia ossia quello della Corte di Giustizia della Senna con sede a Parigi l'atteggiamento appunto che assume verso gli italiani giudicati cercando di metterlo in relazione con il loro comportamento durante l'occupazione sicuramente le Corte di Giustizia sono l'istanza straordinaria e l'istanza penale in generale che è incaricata di reprimere la collaborazione i crimini di collaborazione più si occupa del giudizio degli italiani è impossibile stabilire in questo momento una cifra globale che riassuma il fenomeno per tutta la Francia ma a partire dai tre dipartimenti che ho potuto studiare ossia la Senna le Alpi Marittime quindi Nizza e il dipartimento di Metz più di 700 casi sono stati esaminati dalle Corte di Giustizia per soli tre dipartimenti il che permette di pensare che su tutto l'esagono si tratti di qualche migliaia probabilmente due forse tre migliaia di italiani giudicati in questo proposito i documenti alcuni documenti diplomatici italiani permettono di stabilire in modo comunque parziale permettono però di stabilire e di avere un'impressione dell'estensione geografica del fenomeno a partire dalle sedi di Corte di Giustizia che si sono occupati di cittadini italiani e la cartina appunto vedete segnate quali sono le città in cui le città che sono state sedie di Corte di Giustizia che sono occupati di italiani questa questa estensione geografica e anche in termini di numeri in termini numerici è sicuramente il riflesso della dimensione stessa della presenza italiana in Francia una presenza che è non solo massiva infatti la principale tra le comunità immigrate nell'esagono ma è anche tra le più antiche e tra le più profondamente radicate nella società francese in proposito all'epurazione si potrebbe forzandola un po' rovesciare l'affermazione di Pierre Milza che diceva che laddove esistevano delle comunità italiane in Francia laddove c'era una presenza italiana in Francia c'era anche una presenza italiana nella resistenza francese si potrebbe rovesciare a mio avviso questa opinione e dire anche che laddove esistono delle comunità italiane esistono anche degli italiani eppurati di fronte alle corti di giustizia e proprio questo essere parte integrante della società d'oltrealpe è probabilmente una delle ragioni per cui i cittadini italiani immigrati italiani si vengono a trovare in una posizione contraddittoria vis-à-vis delle corti di giustizia queste istanze straordinarie infatti che sono create per l'appunto per reprimere e punire i fatti di collaborazione e che hanno un ruolo centrale direi principe nel complesso apparato giudiziario e purativo francese sono infatti incompetenti rispetto al giudizio dei cittadini nemici e quindi anche degli italiani per estensione questo almeno è quanto afferma la corte di cassazione con la sentenza del 17 aprile del 47 sentenza detta Fritz-Ronenberger relativa a due imputati tedeschi la cassazione con questa sentenza stabilisce infatti che i crimini di collaborazione intesa come intelligenza con il nemico ossia come atti compiuti con l'intenzione di favorire qualsiasi attività o impresa del nemico non si possono imputare a individui appartenenti alla nazione nemica stessa una conclusione simile a quella citata a poc'anzi da Fabrizio Virgili ma che questa volta intervenendo nel 47 dà una chiarificazione definitiva della questione ciò non significa che i fatti commessi non costituiscono un'inflazione bensì solo che non sono identificabili in quanto collaborazione e per questo motivo non sono giudicabili dalle corti di giustizia in questo senso la la sentenza indica identifica come solo istanze competenti i tribunali militari una sentenza quindi che viene a portare della chiarezza su una questione una questione che era stata molto controversa relativa al giudizio degli italiani come testimonia il procuratore generale della corte d'appello di Tolosa e che era stata fino a quel punto risolta per lo più in modo diverso da quello indicato dalla sentenza appunto non senza che questo problema di competenza causasse delle incertenze piuttosto grosse come uno dei tanti esempi tra i quali appunto quella citata da Virgili prima forse i più tra questi esempi forse uno dei più emblematici è quella di un cittadino italiano di nome Gallina rispetto al cui caso il tribunale militare di Marsiglia si dichiara incompetente una prima volta rinvia il caso alla corte di giustizia della stessa città che a sua volta si dichiara incompetente e quindi sarà una terza istanza sempre un tribunale militare ma questa volta di Parigi a condannarlo a morte una chiarezza quindi che arriva però tardiva quando in realtà la maggior parte dei processi contro gli italiani e delle condanne sono già state pronunciate se secondo sempre il procuratore generale di Tolosa questa scelta è stata fatta la scelta di privilegiare le corte di giustizia sui tribunali militari è stata fatta in un'ottica di opportunità e di rapidità di opinione diversa sembrano essere le autorità italiane diplomatiche ai loro occhi infatti il giudizio emanato da una corte di giustizia rappresenta uno svantaggio per gli imputati italiani in quanto prevale una giustizia di tipo politica e soggetta a oscillazioni contestuali dipendenti dal contesto appunto geografico ma anche cronologico mentre ai loro occhi i tribunali militari avrebbero un carattere più neutrale più equilibrato e sicuramente più obiettivo è chiaro che una simile situazione non era stata prevista dal legislatore francese e credo che si possa far dipendere almeno in parte dal fatto che gli italiani si trovano in qualche modo alla frontiera alla frontiera della comunità nazionale ma anche alla frontiera della definizione politica di nemico la frontiera della comunità nazionale perché come dicevo prima un'immigrazione molto antica e molto ben radicata nel corpo sociale francese e che e che e che spesso e che crea questa situazione crea delle difficoltà alla giustizia stessa nell'identificare l'appartenenza a volte degli individui italiani giudicati un esempio sempre un esempio emblematico tra i moltissimi che si potrebbero citare è quella di un italiano che viene giudicato addirittura da una chambre civique il cui funzionamento è molto meglio definito rispetto a quello delle corti di giustizia il cui giudizio è riservato ai cittadini francesi ora la giustificazione che viene offerta per spiegare il fatto che un italiano sia stato giudicato da questa corte di giustizia è che è sempre stato considerato un francese infatti sebbene figlio di genitori italiani si tratta di un individuo che è nato in Francia che è cresciuto in Francia che non è mai rientrato in Italia ma che ha conservato nazionalità quindi gli italiani si trovano un po' a cavallo delle identità nazionali e allo stesso tempo il loro statuto politico non è non è chiaro all'indomani della liberazione non è chiaro in ragione del cambio di fronte dell'Italia nel 43 e della cobeligeranza una situazione un po' dal punto di vista del diritto non facile da definire e che in ogni modo non è stata riconosciuta dalla Francia che è fino alla dichiarazione fino alla firma del trattato di pace è formalmente in guerra con l'Italia ad ogni modo caratterizzare gli atti degli italiani immigrati come collaborazione attraverso il giudizio delle corti di giustizia e ai miei occhi si traduce ai miei occhi in qualche in qualche modo in una sorta di inclusione nella comunità nazionale francese un'inclusione che paradossalmente è effettuata con il solo fine di eventualmente in caso di condanna escluderlo escludere l'imputato nuovamente dalla comunità francese questo questo è un aspetto generale insomma del giudizio degli italiani delle purazioni degli italiani nelle corti di giustizia francesi che riguarda il funzionamento di tutte le corti di giustizia in seguito a questa osservazione vorrei passare a all'analisi della corti di giustizia dell'assegno un'analisi più specifica giusto una piccola nota sulle cifre che citerò d'ora innanzi sono delle cifre che sono state elaborate a partire da da diversi da diverse fonti che non sono definitive non sono precise non possono essere definite esatte in ragione appunto delle stesse fonti che non lo permettono ma che danno una buona una buona approcciazione di quella che è è potuto essere è potuto essere il coinvolgimento degli italiani nelle corti di giustizia della Senna quanti sono quindi gli italiani giudicati sono 143 a fronte di un'attività della corte che ha interessato poco meno di 7000 persone questo corrisponde come si può vedere da a circa il 2,1% dei giudizi delle sentenze totali che può sembrare non molto importante rispetto alla totalità ma che deve essere messo in prospettiva della presenza italiana nel dipartimento stesso gli italiani sono infatti all'incirca 70.000 e rappresentano l'1,4% degli abitanti del dipartimento della Senna ora questi dati anche se devono essere presi un po' con le pinze perché la corte di giustizia parigina deve giudicare anche i casi provenienti da altri dipartimenti man mano che le corti in provincia vengono chiuse soprattutto a partire dal 49 quindi ci sono appunto casi che non sono legati al dipartimento ma ad ogni modo si può concludere che l'epurazione della corte di giustizia interessa gli italiani in modo proporzionale alla loro presenza sul territorio in modo proporzionale al loro territorio in modo proporzionale anche alla distribuzione della nazionalità ossia 343 italiani coloro che sono i nazionali italiani sono solo per così dire 87 e il resto sono italiani naturalizzati recentemente ossia negli ultimi 30 anni appunto italiani naturalizzati francesi proporzionale perché nel dipartimento della Senna su questi 70.000 italiani che ha citato poco anzi 25 25 all'incirca sono naturalizzati e il resto sono cittadini italiani per quanto riguarda invece il profilo cronologico delle sentenze emanate a Parigi riguardanti gli italiani si possono fare diverse osservazioni la prima è che i cittadini appunto italiani non sono in sostanza più giudicati dopo l'aprile del 47 le sentenze che si possono vedere nel grafico riguardano o dei naturalizzati o dei giudizi in contumacia oppure i casi in cui la Corte si dichiara incompetente per giudicare tali casi un altro punto interessante è che il primo caso di italiano giudicato anzi di italiana giudicata italiana naturalizzata in questo caso colpevole di denuncia alle autorità tedesche una denuncia che però in realtà è il risultato di un litigio divicinato e che per questo stesso motivo abbastanza futile si traduce in una sentenza di prigione questo giudizio poco importante diciamo arriva quattro mesi dopo l'inizio dell'attività della Corte di Giustizia parigina che inizia nella seconda metà di ottobre del 44 mentre il primo giudizio è del 28 febbraio del 45 questo divario questo decalage di quattro mesi sta a dimostrare come Parigi dopo essere stata capitale dell'occupazione diventando la capitale dell'epurazione nel 44 non sia un luogo in cui a differenza di altri di altri contesti regionali non sia un luogo in cui si pone una questione italiana l'opinione pubblica l'opinione politica non risente appunto non non opera una pressione sulle Corte di Giustizia affinché siano giudicati rapidamente gli italiani non dà un valore appunto a questo giudizio come potrebbe essere invece il caso della Corte di Giustizia di Nizza che si apre su dei processi italiani proprio perché proprio per rispondere a delle esigenze politiche e di opinione pubblica allo stesso modo si può osservare un picco tra l'aprile e il maggio del 45 che corrisponde alla fine delle ostilità e corrisponde anche a un momento in cui le questioni italiane le questioni delle relazioni internazionali ma anche le questioni migratorie italiane dopo diversi mesi di silenzio sulla stampa nazionale locale in quanto come afferma Beccelloni considerate di secondaria importanza rispetto alla conclusione della guerra in Germania alla sconfitta del nemico tedesco questioni italiane appunto che tornano un po' alla ribalta dell'opinione pubblica e dell'opinione politica anche in quanto alla liberazione italiana corrisponde alla liberazione dell'aprile nella fine dell'aprile del 45 italiana corrisponde una nuova breve e per quanto irrisoria comunque sentita occupazione francese della Val d'Aosta di Ventimiglia e di alcune parti del Piemonte occidentale vedo scusa e sono 15 minuti si può ipotizzare quindi grazie quindi da quanto ho detto finora si può constatare una certa presenza importante degli italiani tra i giudicati dalla Corte di Giustizia ancorché in modo se si può dire discreto ossia senza un importante valore sulla scena pubblica è interessante quindi chiedersi quale sia l'atteggiamento se severo oppure indulgente della Corte rispetto a questi casi si può vedere che da questi grafici si può vedere che la pena che è più somministrata più spesso agli italiani è la pena di prigione a tempo ossia una pena di reclusione inferiore ai cinque anni le pene di morte sono presso a poco sia quelle eseguite sia quelle non eseguite sono equivalenti al contesto generale della Corte di Giustizia della Senna allo stesso lo stesso si può affermare delle assoluzioni un divario è invece osservabile tra la pena di lavori forzati in cui gli italiani sono in proporzione meno numerosi del resto della popolazione sono invece più numerosi appunto nelle pene per quanto riguarda le pene di reclusione che ripeto sono nella maggior parte delle reclusioni brevi queste reclusioni brevi insieme alle pene pecuniarie che consistono nella confisca dei beni oppure di multe e anche la degradazione nazionale la pena di degradazione sono pene di tipo correzionale e rappresentano quasi la metà di tutte le pene che vengono somministrate agli italiani si osserva quindi che la corte di giustizia si mostra in un certo qual modo indulgente rispetto alla totalità dei giudizi degli immigrati italiani queste sentenze sono però da mettere in relazione al comportamento appunto agli atti alle accuse che vengono rivolte agli immigrati e si può osservare che le due accuse principali su cui soffermerò l'attenzione per questioni di tempo sono la collaborazione economica e le denunce partendo dalle denunce che rappresentano quasi un terzo delle accuse che vengono rivolte agli italiani è possibile identificare due aspetti principali della collaborazione se così si può dire degli italiani da una parte queste denunce fatte dall'utilità di occupazione sono essenzialmente apolitiche sono essenzialmente apolitiche e rivelano scusate e rivelano in qualche modo una comunità italiana una presenza italiana che riscontra delle difficoltà riscontra si trova di fronte a un certo rigetto da parte della della comunità francese a causa appunto della guerra e dell'occupazione della posizione fascista dall'altra parte la collaborazione economica che che interessa principalmente tre tipi di di italiani ossia gli imprenditori edili i courtier e gli importatori mostrano come gli italiani si trovano di fronte a una certo all'occasione alla possibilità di instaurare la possibilità anche privilegiata di instaurare delle relazioni economiche con economiche commerciali con i tedeschi con l'occupante una volta occupata la Francia infatti per fare un esempio di questo privilegio che ci può che può in qualche modo catalizzare l'interesse italiano un esempio per l'appunto è il fatto che le quote le quote di operai italiani che erano previste nelle fabbriche francesi le quote massime possano diventare in qualche in qualche occasione in qualche contesto delle quote minime che l'occupante tedesco impone all'imprenditore francese appunto per favorire l'assunzione degli italiani allo stesso modo diversi imprenditori che sono giudicati di fronte della corte di giustizia appartengono alla sfera di influenza che il fascismo era stato capace di mettere di strutturare durante il periodo fra le due guerre molti appartengono infatti alla camera di commercio che anche alcuni dirigenti della camera di commercio sono giudicati per gli atti commessi durante l'occupazione camera di commercio che era sotto controllo fascista e allo stesso modo si nota un'appartenenza diffusa a tutte quelle associazioni e strutture organizzative che giravano attorno alla camera di commercio come per esempio la federazione dei produttori di mobili o l'unione operaia lunigiana degli imprenditori quindi delle classi delle classi superiori di imprenditori di commercianti di artigiani che frequentano gli ambienti fascisti ma che non hanno un'adesione ideologica specifica un'adesione appunto che manca perché proprio perché il fascismo all'estero e il fascismo in Francia particolarmente è un fascismo che potremmo definire moderato e che non ha aspetti ideologici radicali ma che punta anzi a non infastidire l'autorità francese e al contrario a fidelizzare il più possibile proprio queste queste classi questa fascia sociale di emigrati e proprio questa mancanza di un carattere di convinzioni ideologiche e politiche degli individui giudicati per crimini economici dalla Corte di Giustizia e in qualche modo si traduce scusate si traduce anche nella loro capacità di dare una dare il loro appoggio alla resistenza quando viene il momento e di inserirsi nelle strutture resistenziali antifasciste italiane come per esempio il Comitato Italiano di Liberazione Nazionale che si crea appunto durante l'occupazione e si sviluppa nell'immediato dopo guerra mi scusi la pregherei di chiudere perché mi scusi ma siamo in per concludere vorrei solo ritornare su alcuni punti che sono essenzialmente che la giustizia si mostra la giustizia della Corte di Giustizia si si mostra in qualche modo indulgente capace di tener conto della degli atti non politicamente rilevanti che caratterizzano le accuse rivolte agli italiani e allo stesso tempo sono il riflesso per l'appunto di questo delle radici moderate che il fascismo è stato capace di affondare nel periodo fra le due guerre vi ringrazio ringrazio in modo particolare Daniele Sacco Zirio mi perdoni per il lapsus precedente perché è un lapsus lingue non calami perché l'ho definita un dottorando ma in realtà lei il dottorato l'ha già concluso da tempo ma l'appunto che avevo era giusto quindi questo mi perdoni siamo arrivati quindi al termine delle nostre relazioni previste per oggi e previsto a questo punto un intervallo che io ridurrei a cinque minuti visto che abbiamo sforato di circa una decina di minuti e poi procederei come abbiamo proceduto nei seminari nelle sedute passate non trago delle conclusioni saranno semplicemente due parole poi passerei direttamente alle conclusioni ci vediamo quindi adesso sono le 37 ci vediamo ai 42 se va bene per tutti ovviamente sì sì rabbana ok ok Grazie a tutti. 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 Se ci siamo tutti... Forse non sono ancora rientrati tutti, Luciano. E forse no, non sono ancora rientrati. Mi sembra... Va bene, aspettiamo qualche minuto. Ci sono altre domande, le vedi tu, no? Sì. Sì. Nella chat. Sì, vedo nella chat. Sì, vedo nella chat. Vediamo un po'. Vediamo un po', ecco qui ci sono... Vediamo un po', ecco qui. Ecco, proviamo a raccogliere. Vediamo come se preferite farle in viva voce o le raccogliamo e le leggiamo come nelle altre presenti. E questo sta a voi deciderlo. Io non ho preferenze particolari se non il fatto che faccio fatica a leggerle sul video, ma insomma... Io parlerei. Va benissimo. Va benissimo. Io volevo solo... Non voglio fare conclusioni, ma esprimere solo un parere che mi pare doveroso. nel senso che questo seminario entra direttamente in quello che a me sta particolarmente a cuore, ma sta a cuore all'Istituto, del sguardo internazionale e della comparazione internazionale. Ripeto, un'esigenza che sento, e vedremo però come sarà possibile svilupparla, è quella di una comparazione con i paesi dell'Est. Anche perché sono stati il tema della... come dire, della... delle purazioni nei paesi dell'Est, è stato oggetto di, negli anni passati, oggi molto meno, ma continua ancora, di polemiche più politiche, ovviamente, che storiografiche, e credo che oggi possa essere il momento di aprire un discorso serenamente storiografico. Luciano, scusa, puoi alzare un po' la voce che non ti... chiedo scusa. Provo a vedere cosa... l'alzo al massimo. Va meglio? Sì. Funziona meglio? Sì. Sì, va bene. L'ho alzata al massimo. Quindi, ecco, no, brevissimamente, questo, ripeto, questo approccio di comparazione internazionale mi pare l'unica strada che oggi è perseguibile, non solo per ragioni storiografiche. Io a questo punto lascerei lo spazio al dibattito se ci sono delle domande che vengono poste, perché ci sono domande ma non sono specificate, c'è solo una richiesta di domande. Quindi vedo che la prima è di Focardi e quindi darei la parola a Giovanni. Sì, buonasera. Una domanda prima delle domande. Facciamolo delle domande ai relatori, cioè tutti insieme per un relatore ciascuno? Oppure possiamo fare tutto un primo giro di domande appunto in generale dato che io ne avrei tre per tre differenti relatori e relatrici? Oppure seguiamo l'ordine, facciamo prima le domande tutti quanti, quelli che hanno da fare la domanda al primo relatore, poi al secondo, poi al terzo? Facciamo come le altre volte. Sponi la domanda a tutte le domande e poi lo raccontiamo per relatori e intervengono gli relatori. D'accordo, va bene. Allora, per il professor Neppi Modona, buonasera. La questione è, questi magistrati dimenticati di cui ci parlava in realtà sono ben ricordati dai vertici del CSM per esempio, ma le volevo chiedere in particolare se dai profili che lei ci ha fatto, quello che forse è il magistrato per eccellenza che è il più famoso come caso di continuità, cioè Gaetano Azzariti, ebbene lui è il primo magistrato della Corte Costituzionale che redige la prima famosa sentenza storica della Corte stessa, che è quella che in qualche misura rompe proprio quella preeminenza della Cassazione da cui lo stesso Azzariti veniva. Allora, pensando a questo fatto, quale può essere o quale invece non può essere un'evoluzione in qualche misura democratica di questi magistrati di così alto livello? Perché abbiamo tanti casi di continuità, appunto, come dire, conservatrice, reazionaria anche in certi casi, se guardiamo le loro carriere, e come se lo spiega il caso di Azzariti invece che nella prima sentenza rompe con tutte queste tradizioni a cui lui stesso aveva contribuito dal Tribunale della Razza, eccetera, eccetera. La domanda per Fabrice. Ciao, buonasera. Allora, nel caso francese c'è, mi pare, una differenza un po' più netta rispetto a quello italiano sulla centralità dell'esercito, la centralità dell'armato, e tu non parlai troppo del generale De Gaulle e del generale Darlan, per esempio, di questo è il precedente, il precedente dei accordi di Darlan e del generale Darlan, che è un esempio che è, come si può dire, è un esempio che si può ognare. E quindi quando arriva a richiesto, poter, non? e poi De Gaulle in realtà va via janvier 46 qu'est-ce qu'il change il y a qualche changement entre la fin del 45 jusqu'à janvier 46 e poi il parto di De Gaulle perché in quanto quattro periodo il sound è che se c'è De Gaulle o se non c'è De Gaulle c'è la même chose per Barbara ciao buonasera anche a te dunque la questione delle donne a me pare che come si mette rispetto al fatto che la donna nella terza repubblica francese ha una status sociale abbastanza diverso rispetto alla donna degli anni 30 fascista diciamo così della società fascista e magari la guerra come dire appiattisce molto queste differenze però il punto di partenza era molto diverso ma soprattutto la donna francese di Vichy del 40, 41, 42 che collabora in tanti modi con gli occupanti tedeschi e italiani lo fa in un contesto in cui la guerra ancora è incerta anzi fino al 41 la Germania e l'Italia l'asse pare vincere e invece le donne della Repubblica Sociale si sa già che la guerra è perduta o che si sta per perdere perché il contesto internazionale di Bellico è veramente cambiato quindi non so se in questo loro si hanno lasciato in qualche modo come si rapportano a questo contesto così diverso e una piccola curiosità se in Francia ci sono donne avvocate che difendono donne imputate o anche in Italia perché per l'Italia un po' lo so che sono molto rare ma magari in Francia tu hai trovato qualcosa di più grazie raccoglierei le domande perché nell'ordine abbiamo Maria Di Massa che Martini prima di me Andrea Martini Martini sì ecco Andrea Martini se vuole porre la propria domanda sì buonasera a tutti grazie diciamo io per varie ragioni non ho potuto seguire tutto questo diciamo sessione quindi vorrei rivolgere solo una domanda a Paolo Caroli che saluto a cui chiederei una riflessione più ampia perché ho trovato molto interessante il suo approccio sulla giustizia e transizione in qualche modo sull'utilizzo di questa categoria che quindi ci consente di guardare oltre il 45-46 in altri termini e di adottare una cronologia più vasta lui a un certo punto nella sua relazione ha sostenuto non si poteva forse fare di più dopo il 46 ma invece questa resa di conti con il fascismo poteva essere diciamo messa in atto in maniera più appropriata dopo il 1989 ecco io mi chiedevo se nella sua ricerca in qualche modo accennava anche un libro in inglese in cui inquadrare il caso italiano in questa categoria e in questa prospettiva dei transitional justice studies se nella sua ricerca sta appunto esaminando anche i decenni che ci sono a metà tra il 45 e l'89 e se ad esempio provvedimenti come possono essere la legge Shelbach che in qualche modo contrasta le formazioni neofasciste piuttosto che le decisioni in certi decenni da parte di certi governi di rafforzare il paradigma antifascista costruire dei monumenti dedicati ai caduti partigiani piuttosto che altre politiche della memoria sostanzialmente rientrano nel suo orizzonte ricerca ecco questa è una mia semplice curiosità grazie adesso Maria se allora sì allora una considerazione e una domanda per Guido ascoltando delle per Guido ecco ascoltando diciamo così dei giudizi negativi che venivano fatti sui contenuti giuridici delle delle sentenze delle delle casse mi chiedevo se in questi giudizi si distingue tra la primissima giurisprudenza della casse per esempio facendo il caso di Livio Enrico abbiamo una produzione giurisprudenziale prima che la Cassazione intervenga definendo sostanzialmente i principi a cui poi si atterranno tutte le casse compresa quella di Torino una giurisprudenza che viene molto contestata e spesso oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione abbiamo poi un allineamento di questi magistrati a quelli che sono i principi dettati dalla stessa Corte di Cassazione perché c'è un controsenso perché se a essere contestati sono stati diciamo così momenti di libertà della Cassa di Torino allora può avere un significato anche sul piano giuridico ma diversamente questi alti magistrati contestano loro stessi già che le argomentazioni giuridiche poi sono quelle suggerite dalla stessa Corte di Cassazione quindi volevo capire se si comprendeva quali erano insomma gli oggetti contestati della produzione Cass di Torino se c'era ecco questa indicazione nelle note diciamo negative e poi invece una domanda a Paolo Caroli in riferimento all'etichetta di collaborazionismo che effettivamente viene appiccicata su una serie di fatti specie che erano già presenti nell'ordinamento sia nel codice ordinario che in quello militare perché a me pare che l'effetto poi politico e anche quello che è rimasto nella memoria pubblica in riferimento al concetto di collaborazionismo sia stato in realtà questo escamotaggio politico un'arma a doppio taglio perché è diventato sia durante i processi Cass che successivamente nella così nella pubblicistica di destra e anche in una certa pubblicistica diciamo storiografica anche recente un luogo comune quello per cui il collaborazionismo fosse un nuovo reato inventato ad hoc per punire i fascisti e quindi di fatto è diventato anche un pretesto per una contestazione diciamo a 360 gradi proprio della legittimità delle Cass e anche della violazione del principio di retroattività che è vero che non ci fu violazione di questo principio però fu contestato continuamente tant'è che arrivò addirittura in corte costituzionale della questione e fu poi la corte costituzionale a mettere la parola fine a questo ipotetica questa ipotetica violazione ma ancora oggi noi troviamo nella pubblicistica una delegittimazione diciamo della stagione giudiziaria Cass basata proprio sul concetto di retroattività e quindi volevo una tua opinione su questa cosa grazie che devo accendere vedo che c'è ancora una domanda di Antonio Grilli per Barbara De Luna prego ecco forse adesso mi sente sì io avrei una domanda effettivamente sulla problematica del collaborazionismo alla Barbara De Luna tra l'altro niente sono recentissimi i documentari tra l'altro ne è stato proiettato uno anche sull'ERTEBF la televisione belga il 20 novembre che si chiama Les Enfants della Collaboration praticamente si è riscoperto alcuni anni fa in Francia si riscopre adesso in Belgio un paese occupato a pari della Francia si riscopre questa tematica delle donne un collaborazista nel senso delle donne che ebbero rapporti di amicizia ovviamente anche di più con occupanti tedeschi ora il fenomeno si reputa essere stato nelle decine di migliaia soprattutto in Francia è un fenomeno chiaramente alla liberazione questo fenomeno fu dipinto come collaborazionismo ma è un fenomeno rilevantissimo ora lei ha parlato di delle donne fasciste delle donne che in qualche modo in Italia ebbero rapporti con membri della appartenente della repubblica sociale però questo dato di contatti come dire sentimentali tra donne italiane e appartenenti alle forze armate tedesche nel periodo più breve dell'occupazione italiana mi sembra che non sia stato ancora studiato io non lo so ecco vorrei qualche delucidazione da parte sua grazie bene se non ci sono altre domande io chiederei a inizierei con Guido Neppi se vuole rispondere alle domande che gli sono state poste mi sentite sì allora per quanto riguarda la domanda di di Focardi sì è vero i magistrati Presidenti di Corso Rassise non sono stati dimenticati dai loro superiori gerarchici io dicevo nel senso dimenticati perché non ci si è ricordati di loro per i loro meriti per il lavoro ottimo che avevano svolto insieme nella loro qualità di presidenza delle forze d'assise ma il problema soprattutto riguarda mi sembra Azzariti e Azzariti non so se si è pentito o no certo questo è un personaggio eccezionale buono buonissimo per tutte le stagioni come dimostra il fatto che ha presieduto il Tribunale della Razza e poi ha presieduto la Corte Costituzionale ma allora io la spiegazione che darei è che questo è stato un giurista di una intelligenza straordinaria che ha saputo diciamo così prepararsi il futuro nell'ordinamento repubblicano grazie appunto alla sua stagionale intelligenza e alla sua capacità di adattarsi in maniera quasi camaleontica a tutti i regimi a tutte le stagioni non dimentichiamo che anche prima per entrati in funzione della Corte Costituzionale lui ha scritto dei saggi importanti sulla Corte Costituzionale insistendo sulla necessità di istituire al più presto una Corte Costituzionale che svolgesse la sua funzione di giudice e delle leggi e quindi si spiega benissimo questa sentenza la famosa sentenza numero uno del 56 di Azzariti e che ha diciamo così legittimato la competenza della Corte Costituzionale a giudicare su tutte le norme evidentemente non solo delle future ma anche quelle precedenti emanate durante la regime fascista quindi io direi non tanto una sorta di chiamiamola di tentimento quanto di non rendere omaggio alla straordinaria intelligenza di questo giurista e alla sua capacità di proiettarsi sul futuro sulla sua carriera nell'ordinamento repubblicano tant'è che è diventato presidente della Corte non so se devo rispondere anche alla domanda di Maria o sì sì ciao Guido rispondi anche alla mia alle domande che sono state fatte a Focardi ditemi voi sì Guido rispondi anche a quella domanda che ti ho fatto io così poi passiamo agli altri di Maria ecco allora a me sembra che i giunizi negativi sulle sentenze dei presidenti delle casse da quello che io ho capito anche dal punto di vista cronologico perché questi qui domandavano di diventare magistrati consiglieri di Cassazione negli anni 50 molto più avanti quindi le sentenze che venivano prese in esame dal consiglio superiore con quei giudizi che abbiamo visto di chiamare addirittura sprezzanti e denigratori era il consiglio superiore di tutta se non è parte appunto i giudici che erano già al vertice o quasi nel periodo fascista poi sono transitati senza colpo fruire in un ordinamento repubblicano bene quei giudizi si riferivano non alle sentenze delle torti d'assise da loro scritte dai presidenti delle casse ma si riferivano alla loro produzione giuridica successiva negli anni 50 quando loro facevano domanda per essere promossi a consiglieri di Cassazione quindi se ho ben capito mi sembra che invece Maria pensasse che i giudizi negativi si riferissero alle sentenze pronunciate in funzione di presidenti delle casse no quelle sentenze non si pensava che chi ha da annullare quelle sentenze tant'è che è stato giustiziere del 95% delle sentenze che venivano annullate senza rinvio o se c'era rinvio veniva annullata come sapete in luoghi dove non c'era stata guerra di resistenza che so io o Urbino o Orvieto cioè dove non c'era stato un clima tale da capire cosa poteva essere stata la resistenza allora se confermami solo questo fatto se tu pensavi alle sentenze del corso di ristraordinario e quelle non sono state prese in esame infatti io mi riferivo a quelle mi chiedevo se avessero fatto quella valutazione mi sembrava in effetti strano perché erano state già massacrate sufficientemente infatti non c'era motivo non c'era più spazio loro sono stati castigati e due addirittura non sono stati dichiarati donne in senso assoluto e non sono diventati consiglieri di cassazione per nulla gli altri lo sono diventati con molto ritardo e con dei giudizi veramente molto sprezzanti insomma in cui si mette in rilevo che di una direzione si dice ma sì insomma vediamo di questa promozione tanto oramai alla fine della carriera rimane poco consigliere di cassazione però facevano proprio due mondi che non comunicavano tra di loro pericchio chiamati magistrati comuni magistrati ordinari e quelli invece che erano i vertici che avevano fatto la loro carriera già durante la regina fascista non comunicavano questi due mondi e quindi i capi i vertici della magistratura nel periodo repubblicano continuavano a castigare i magistrati che non erano stati come loro invece erano stati proni a regina a regina fascista e questo è durato sino alla fine degli anni 60 quando si è esaurita quella generazione dei magistrati che sono passati da posti alti già nel regime fascista e poi hanno continuato la loro carriera ai vertici della magistratura nell'ordinamento repubblicano grazie grazie Guido abbiamo adesso una domanda per Fabrice Virgili due per Barbara De Luna e due per Paolo Caroli chi vuole intervenire Virgili grazie grazie a propos di grazie a propos la particolarità di di parcours di De Gaulle a questo momento è che si è si è che si è di poter al meglio rendere l'epurazione che si è di una parte in un cadre il più legale non ne ne si è ma ma che il so e e d'ailleurs il va avere in che del governo provisoire il d'accordo di grazie che è il d'accordo regaliano riservo ai altri presidenti avant lui e après lui ma il è in che che del governo e il va utilizzare questo d'accordo di grazie néanmoins tutto al début Giovanni fa allusion aux accords entre Clark e Darland après le débarquement en Afrique du Nord il y a une période de six mois incertaine de Gaulle n'est pas à Alger il est à Londres à ce moment là les américains font tout pour essayer de l'écarter pour imposer finalement que ce soit Giraud qui soit au premier plan ça marche ça on peut avoir l'illusion que ça fonctionne mais quand de Gaulle arrive en mai 1943 c'est-à-dire quelques jours après Pucheux en fait Pucheux pense parce qu'il a l'accord tacite de Giraud qu'il va pouvoir revenir mais quand de Gaulle arrive quelques jours après c'est la proclamation du CFLN comité français de libération nationale qui assoit clairement sa légitimité et celle de la résistance par rapport à Giraud qui était un militaire originaire d'extrême droite qui n'avait pas été pétainiste puisqu'il avait été évadé mais qui n'était sûrement pas du côté de la résistance pas plus que d'Arland qui a assassiné aussi à ce moment-là et c'est juste après deux mois après que les premières lois dont je parlais l'ordonnance sur la mise en place de la commission d'épuration puis celle sur les tribunaux militaires sont mises en place et donc que l'épuration peut réellement commencer pûcheux et arriver 15 jours trop tôt c'est-à-dire que 15 jours plus tard il ne serait pas venu et il aurait en tout cas sauvé sa peau à ce moment-là je ne pense pas qu'il l'aurait sauvé en 45 mais il l'aurait sauvé en 43 sans aucun doute quant à son départ en janvier 46 c'est un moment où l'épuration et les cours de justice la haute cour fonctionnent sur l'ensemble du territoire et en dehors de son droit de grâce qui va être transmis à ses successeurs Félix Gouin quelques mois Georges Bideau pareil puis plus tard Vincent Auriol le cours de la justice ne change pas à ce moment-là on est dans une décroissance en général des condamnations les grands procès ont eu lieu Pétain Laval ont eu lieu et il y a moins d'enjeux directement politiques de ces procès dans le temps qui suit donc finalement on ne peut pas calquer l'histoire de l'évolution de ces juridictions sur la présence ou finalement le départ de De Gaulle c'est un élément mais qui n'est pas primordial en tout cas pour son départ voilà j'espère avoir bien répondu à la question merci Virgili ci sono due domande per Barbara De Luna se vuole rispondere Allora la domanda di Focardi innanzitutto no non ho mai trovato un avvocato donna che difendesse un imputata purtroppo né in Italia né in Francia e invece per quanto riguarda le modalità con cui si rapportavano soggettivamente le donne al contesto di guerra in cui erano immerse in realtà è un dato che dalla fonte giudiziaria è difficile estrapolare perché le testimonianze del donne risentono comunque del tono giudiziario del processo e spesso sono strategie difensive quindi forse per approfondire questa domanda andrebbe approfondita all'analisi di un altro tipo di fonte della fonte memorialistica dei diari delle lettere che è quello che magari nel futuro potrò pensare di fare anche se sono comunque fonti abbastanza scarte per quanto riguarda le collaborazioni di queste donne in entrambi i paesi invece per quanto riguarda il rapporto tra donne tedeschi in Italia è sicuramente meno studiato che in Francia ne ha parlato per esempio Michela Ponzani anche in riferimento appunto ai figli del nemico come vennero trattati nel dopoguerra però per esempio anche la questione delle fountain du che è stata approfondita in Francia in Italia non c'è uno studio organico complessivo del fenomeno quindi è ancora da fare per quanto riguarda le mie fonti le donne che ebbero rapporti con i tedeschi ci furono anche in Italia ma furono meno di quelle francesi e soprattutto nel dopoguerra ad assumere maggior rilievo furono invece i rapporti tra donne italiane e uomini italiani quindi con i fascisti repubblicani grazie ci sono adesso due domande per Paolo Caroli e gli lascio la parola grazie allora per quanto riguarda Andrea grazie della domanda sì allora io il mio percorso è stato un po' inverso nel senso che io sono arrivato ho studiato per il mio percorso di studi prima la transitional justice i casi più classici diciamo delle cosiddette tre fasi e poi ho iniziato a studiare il caso italiano e allora innanzitutto bisognerebbe accordarsi su quale definizione adottiamo di transitional justice c'è una definizione ad oggi ufficiale che è abbastanza ampia che è quella data dal report del segretario generale dell'ONU del 2004 in ogni caso le nozioni più recenti tendono ad essere assolutamente ampie ed ad adottare i cosiddetti approcci holistici che superano le due visioni precedenti cioè quello che limitavano la giustizia di transizione ai casi post conflitto e post dittatoriali quindi ampliando la nozione di transizione ma anche ampliando gli strumenti disponibili cioè non più solo il processo penale o penale internazionale non più solo amnistia commissioni per la verità ma tutti quegli strumenti che anche a distanza di anni vengono utilizzati per fare i conti con il passato riforme dei testi scolastici iniziative memoriali io giusto per fare un esempio io per due volte in questi anni l'ultima volta a dicembre partecipo a una conferenza che si tiene ogni due anni alla Columbia University su giustizia di transizione dove partecipa gente di tutto il mondo se alla prima volta ancora molte delle relazioni erano sui casi classici di amnistie commissione per la verità quest'ultimo dicembre la maggior parte della relazione si focalizzava proprio su rimozione di statue contestualizzazione di monumenti politiche relative ai libri di testo gite scolastiche tutto questo oggi possiamo poi discutere io credo che vadano a trovare anche dei confini però questo oggi viene visto come giustizia di transizione a me è servito applicare giustizia di transizione al caso italiano per due motivi uno per ampliare l'ospetto della ricerca in maniera sincronica e quindi non valutare solo quello che valuterebbe un penalista ma tutti elementi di tipo sociologico costituzionale culturale proprio per la peculiarità del momento in cui la giustizia di transizione opera ma il secondo motivo è quello che dicevi tu cioè l'ampliamento di tipo diacronico sia per la descrizione che per la valutazione nella dottrina della giustizia di transizione si distingue di solito tra una valutazione di un impact che è a breve termine e di una legacy che richiede si dice almeno una generazione per essere valutata il mio punto di vista è che tutta una serie di fenomeni attuali che ovviamente poi devono essere contestualizzati ma che includono l'adattamento italiano delle politiche europee memoriali le iniziative memoriali della presidenza della repubblica come quelle più recenti la scelta di criminalizzare o meno il negazionismo di criminalizzare l'apologia del fascismo sui social eccetera tutto questo nella mia prospettiva fa parte di un unico processo transizionale che io vedo ancora come aperto e incompiuto o comunque in corso ecco quindi ecco questo per rispondere alla tua domanda sul mio sul mio approccio per quanto riguarda la domanda di Maria condivido assolutamente tutto quello che ho detto che hai detto ovviamente io diciamo ho semplificato un attimo il discorso perché per mostrare la differenza fondamentale del caso italiano rispetto appunto a Norimberga per dirne una esempio principale possiamo anche poi discutere se ci siano delle una retroattività di sicuro non c'è una retroattività della criminalizzazione sulla retroattività della pena soprattutto per quanto riguarda l'estensione civili possiamo poi discuterne io però non credo che che quello che questa narrazione che tu hai detto sul fatto che si erano stati puniti esposti i fascisti sia frutto solo di una fake news di una propaganda diciamo così dei post dei post fascisti è figlia secondo me dell'idea che quella comunque fosse una giustizia politica anche se sappiamo che non l'è stata perché siamo tutti consapevoli di come le casse si siano viceversa frenate dal punire condotte la cui connotazione era squisitamente politica pensiamo al collaborazionismo economico ma ricordiamo che si tratta sempre di condotte che sarebbero state comunque rievanti a prescindere dalla connotazione politica cioè il fatto di uccidere di torturare sono condotte che sono già di per sé rievanti sulla base del codice penale ma alla base di questa narrazione secondo me c'è un concetto che fino a Norimberga era assolutamente dominante nella mentalità comune cioè che la guerra costituisca uno stato di eccezione uno stato di eccezione ed è una una mentalità che rimane fino alla svolta storica di Norimberga che costituisce la nascita del del diritto penale internazionale e l'affermazione della responsabilità individuale in particolare per i crimini di guerra e poi poi non solo ma questo ribalta secoli di idee per cui le guerre si concludono sempre con le amnistie e per cui l'unico responsabile è sempre comunque eventualmente l'ente collettivo lo stato ma mai gli individui e in questo senso secondo me l'Italia e proprio il regime fascista aveva dato viceversa in anticipo aveva anticipato quella che sarebbe stata la svolta negli anni successivi perché il nostro i nostri codici penali militari in particolare quello di guerra proprio adottati in epoca fascista per la prima volta traducevano il contenuto delle convenzioni internazionali che disciplinavano i rapporti tra stati in responsabilità penale individuale quindi in un certo senso il fascismo già aveva anticipato questa rivoluzione copernicana grazie c'è una sulla chat vedo un ringraziamento da parte di Antonio Grilli e la richiesta se si possono avere gli estremi di questi convegni della Columbia sulla giustizia di transizione sì sì beh certo posso anche inviare eventualmente poi dei link ci sono anche delle mail in glissa ce ne sono tantissimi perché ormai la giustizia di transizione è diciamo istituzionalizzata e viene anche molto criticata per questo all'interno dell'ONU c'è uno special rapportore però questa in particolare a cui partecipo io si chiama AHDA Alliance for Historical Dialogues è l'ente che organizza questa conferenza alla Columbia grazie siamo praticamente nei tempi perché avremmo ancora dieci minuti rispetto ai tempi che ci siamo previsti per la chiusura se ci sono ancora domande o interventi possiamo farlo vedo che prego posso approfittare solamente per perché nella velocità dell'intervento e nel tentativo di dare una carrellata generale come mi ha fatto notare giustamente Paolo Pezzino che mi indicava di aver sottovalutato una tesi di laurea sulla Cass di Firenze che è in corso di pubblicazione e so benissimo di non aver citato per esempio l'ottimo lavoro di Yara Meloni sulla Cass di Piacenza per cui ci sono anche in divenire anche altre altri sguardi territoriali se a parte che c'è una domanda di Giovanni magari lascio parlare lui se la fa a me domanda di Giovanni sì sì è una di Grilli per Fabrice anche la mia è rapida Toni te parli di giustizia politica nel titolo del tuo intervento e non di giustizia di transizione mi fai un commento grazie sì parlo di giustizia politica e non di giustizia di transizione perché credo che la genesi e la storia della costruzione come dire delle corti d'asside straordinarie di tutto quello che viene prima dell'esperienza di riflessione interna CLN Alta Italia e all'interno invece del governo del sud e quello che è come sappiamo la nascita complessa con decreti anche che si confrontano ci mostra anche un tentativo alto della resistenza di frenare come dire la violenza di rivalsa e quindi io penso che ci sia un tentativo politico di operare il passaggio verso la dimensione democratica era un'accezione di politico nel senso di se fossi riuscita ad arrivare alla fine dell'intervento mi sarei soffermata su quanto lo sguardo di un esito fallimentare delle corti d'asside straordinarie che passa attraverso l'amnistia che passa attraverso i giudizi di Cassazione e di una depanelizzazione fondamentalmente dei reati di collaborazionismo e dello sguardo di punizione verso il fascismo repubblicano tende ad offuscare secondo me il valore che hanno questi procedimenti in questi due anni che ha anche un valore di rieducazione a un nuovo senso della legalità democratica in questo senso io credo che ci sia un'operazione politica perché proprio nell'idea di valorizzare quella dimensione che c'è di riscrittura politica all'interno delle singole sentenze di sguardo e di descrizione di un contesto storico che è in realtà molto più quello della guerra civile che non quello del collaborazionismo che si legge all'interno delle sentenze con quel doppio livello che dal punto di vista penale porta spesso a delle assoluzioni ma non credo che sia l'effetto che fa al pubblico presente lo fa dal punto di vista delle reazioni della prima ora ma la lettura in qualche modo credo che vada ripresa alcune suggestioni che ci offriva Canosa nel 78 sulla Corte di Milano che per esempio metteva in evidenza con chiarezza la specificità dell'uso delle sentenze di condanna a morte da parte dell'RSI per nascondere delle vere proprie rappresaglie cioè una metodologia anche specifica del fascismo repubblicano con un'attenzione una capacità di leggere la fase storica molto più precisa allora in questo io penso che un'opera come dire di tentativo di dialogo di messa a confronto anche dura tra carnefici diciamo ma anche politici dell'RSI e dimensione della parte civile ci sia dentro le casse che porti a un esito penale fallimentare ma che non sia da sottovalutare il valore politico sia ideativo che in realtà di costruzione di senso sono convinta che ci sia una partecipazione dei giudici popolari e anche della dimensione dei pubblici ministeri soprattutto che ancora sottovalutiamo dal punto di vista anche biografico ancora una domanda di Antonio Grilli per per Fabrizio sì no io guardando un po' così anche negli ultimi tempi a Bichy ad alcune sue istituzioni giudiziarie come il Tribunale d'età che convivono con la molteplicità di altri di altri tribunali così non può che incuriosirmi il fatto che in fondo la Quarta Repubblica francese cioè alla liberazione per punire il collaborazionismo si usa la stessa molteplicità giudiziaria la stessa frammentazione giudiziaria che aveva usato Bichy a sua volta nel colpire il sovversivismo gli oppositori politici i politici della Terza Repubblica e così via cioè c'è una incredibile sorprendente continuità nello strumentario proprio giuridico ecco niente volevo sapere cosa ne pensava lui diciamo di questo grazie grazie per la question non 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 je crois qu'il y a deux choses d'abord c'est pour ça que j'ai insisté que dès 1941 du côté de la France libre mais aussi de la résistance intérieure on réfléchit à qu'est ce qu'il faut faire et donc évidemment on improvise au début on essaye de trouver des solutions n'oublions pas qu'une grande partie de la magistrature a été épurée sous vichy et pour celle qui restée a prêté serment comment juger avec des magistrats qui ont pour une grande partie d'entre eux prêté serment donc il y a vraiment l'idée de ces juridictions extraordinaires que sont la haute cour de justice les cours de justice et les chambres civiques ce n'est pas un émiettement c'est trois niveaux le niveau gouvernemental le niveau des crimes de trahison et puis tous ces gens qui ont fait des choses qui ne peuvent pas être assimilées réellement à un crime de trahison mais qui néanmoins doivent être sanctionnés par la république qui renaît et c'est l'idée l'originalité l'inventivité de cette indignité nationale que prononcent les chambres civiques tout ça avec une limitation dans le temps voilà on prendra finalement cinq ans pour juger la collaboration ça commence donc en à l'automne 44 ça s'arrête en 49 et au contraire moi je ne crois pas du tout à un éclatement je crois que l'essentiel de la tâche est là alors bien sûr à côté de ça les tribunaux militaires continuent à juger les crimes de guerre ennemis ils sont à côté mais la la séparation est claire je voulais néanmoins insister sur justement les les troubles dans les conflits de compétences parce qu'il y en a toujours mais globalement il y en a relativement peu et ça fonctionne et les passages de l'un à l'autre fonctionnent ma position avec François Rouquet c'est que finalement contrairement à ce qu'on a beaucoup dit qu'il n'y a pas eu d'épuration ou au contraire qu'elle était un bain de sang l'épuration en France a plutôt fait ce qu'on lui demandait a fait son travail et a permis de mettre à l'écart une partie pas tous bien sûr la plupart des gens qui ont été compromis et de refonder la République merci c'est encore une demande de Giovanni Focardi pour Tony Rovatti non c'est une demande en réalité c'est un commentaire ou une réponse aussi pour paul c'est l'espressione de la République de la République de la République la République c'est un commentaire c'est un commentaire c'est un commentaire de la République 20 perché se guardiamo da un punto di vista più in generale anche quello che è successo lo dicevamo la settimana scorsa in Francia in Algeria piuttosto che in Indosina subito dopo la fine della guerra mondiale eravamo eravamo entrati in quel discorso per cui è più educato mi pare parlare di fa meno problema parlare di giustizia di transizione che non di giustizia politica e se poi guardiamo quello che è successo appunto in generale dal 45 ma altrimenti come dire questa giustizia di transizione è una transizione infinita perché se ci mettiamo dentro anche come faceva vedere Fabrice Virgili i processi di Tuvie, Barbier e Papon arriviamo alla fine del secolo allora la transizione prima o poi dovrà finire giuridicamente parlando altrimenti io credo che converrebbe usare forse qualche altra espressione posto il fatto che siamo come dire non in un contesto così tanto internazionale dove parlare di giustizia di transizione evidentemente si riferisce a dei momenti di transizione politica però altrimenti forse si annacqua troppo questa stessa espressione non lo so ma non non volevo fare domande era una chiosa e poi magari domani ricontinuiamo perché insomma per oggi basta no vabbè voglio togliere la parola però scusate le rispondete pure posso fare solo una piccola replica non so poi se voleva intervenire Tony non voglio togliere allora innanzitutto io credo che allora si tratta chiaramente di etichette convenzionali quindi dobbiamo servono per capirci su e è giusto specificare che se parliamo un conto poi è parlare di giustizia di transizione come progetto politico che nasce negli anni 70 meglio fine anni fine anni 80 e che vede oggi tutta un'istituzionalizzazione nelle Nazioni Unite o ONG e non c'entra niente diciamo con la nostra esperienza che stiamo studiando un conto è fare come ritengo che sia utile io applicare quella metodologia per reggere in maniera più ampia l'esperienza italiana perché ci consente secondo me anche delle riflessioni di tipo comparato che possono essere utili sul fatto che sia una questione infinita allora ripeto oggi si ritiene che la giustizia di transizione debba poi anche prescindere come fenomeno dalla transizione politica effettiva alla democrazia perché comunque le scelte che noi anche dopo decenni facciamo con riferimento a quel passato vedi quello che sta succedendo in Cile dico oggi incidono comunque sul mantenimento e vigore della democrazia e sulla società eh sulla società anche a decenni così come per dire i processi di Francoforte hanno inciso sulla società tedesca pur essendo passati diversi anni pur essendo in qualche modo compiuta la transizione politica in senso stretto ehm io ritengo che che questo sia molto utile per comprendere il le dinamiche faccio un altro esempio stupido eh a poche vie da casa mia a Berlino dove sto parlando adesso qualche settimana qualche mese fa fino agosto la la comunità coreana ha fatto ehm costruire una statua di una comfort woman sapete tutto il dibattito che c'è comfort woman il eh a pochi passi dall'ambasciata del Giappone il Giappone ha chiesto la alla al governo tedesco l'abbattimento di quella statua perché eh costituisce una memoria divisiva eccetera da allora tutti i giorni con la pandemia ci sono dei sit-in davanti a quella statua è ovvio che questo non ha a che fare con la transizione non mettere fenomeni come questo all'interno di uno studio compressivo di quell'esperienza ehm mi sembrerebbe scorretto e limiterebbe per la comprensione di dell'esperienza compressiva secondo me ho citato questo proprio come esempio del fatto che anche eh molti decenni dopo quelle stesse memorie possono essere ancora fonte di di dibattito proprio una battuta anch'io su sempre sulla invece su a a favore della giustizia politica io credo che se riprendiamo la 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 definizione di giustizia straordinaria da cui siamo partiti eh perché il seminario si chiama sulla giustizia militare e giustizia straordinaria giustizia straordinaria giustizia militare in realtà ed era un po' il percorso di lungo periodo che proponevo la giustizia straordinaria è in primis una giustizia politica che ha comunque una definizione di uno stato d'emergenza o d'eccezione che giustifica eh un l'utilizzo come dire di norme straordinarie d'eccezione e io credo che anche tutto il dibattito dell'assemblea costituente sugli articoli sulla magistratura ed in particolare l'articolo cento due sulla possibilità di istituire giudici straordinari o giudici speciali se non come ehm su organi giudiziari ordinari con sezioni specializzate secondo me questa riflessione cioè la nascita del dibattito e la discussione che corre parallela agli anni in cui vige la giurisprudenza delle corti d'asside straordinarie secondo me è di grande interesse da questo punto di vista io credo che il lavoro di Matteo Bennati che uscirà come tesi di dottorato ci offrirà qualche spunto grazie aiuto ci sono altri interventi altre domande se no chiederei a Maria di eccola che non vedevo più ciao concludiamo sì ma quasi quasi in orario anche oggi è stata insomma un bellissimo pomeriggio di relazioni e di discussione ottima quindi colgo questa occasione per brevemente ringraziare innanzitutto Luciano per la conduzione del del pomeriggio e poi anche nella sua veste istituzionale per l'impegno che l'istituto come dire mette in queste in queste ricerche e anche per la storia che hai fatto ecco della come dire delle ricerche dell'istituto e della sensibilità dell'istituto per la dimensione internazionale che anche a me come ben sai sta particolarmente a cuore ecco ringrazio ovviamente tutti i relatori per avere condiviso con noi i risultati delle loro ricerche delle ricerche concluse di quelle che si faranno per aver preso parte alla discussione che è stata stasera credo particolarmente interessante e appassionata purtroppo non siamo riusciti con i nostri partner francesi a vederci a Torino in presenza come avevamo pensato di fare questo novembre dicembre ma l'appuntamento è semplicemente rinviato al prossimo anno per cui confidiamo e lavoreremo per poterci incontrare anche fisicamente a Torino il prossimo anno e riprendere la parte che riguarda la comparazione con la Francia a questo punto vi rimando all'appuntamento conclusivo del nostro ciclo di seminari che sarà domani pomeriggio sempre alle due e mezza domani concludiamo questa questo nostro ciclo di seminari parlando di archivi parlando delle carte che consultiamo di quelle che speriamo di consultare nel futuro di quelle che sogniamo di poter un giorno consultare e di quelle che qualche volta sfuggono alla nostra possibilità di consultazione per tante ragioni che andremo domani a vedere anche in quel caso facendo una comparazione con la situazione francese per cui ci si vede domani ringrazio i partecipanti al seminario che sono ancora numerosi a quest'ora buona serata a tutti ci si vede su questi schermi domani pomeriggio a tutti